Ciao ragazzi, state per vedere la puntata numero zero del Breaking Italy Podcast, nella quale mi sono potuto sedere a questo tavolo con Andrea Venzon, il presidente e uno dei tre fondatori di Volt Europa. Per chi non l'avesse mai sentito nominare, Volt è non soltanto un partito nazionale a vocazione europeista, ma pane europeo, che significa che ha la loro intera identità tra valica i confini nazionali. Questo per capire che la loro ambizione è presentarsi in tutti i paesi europei con lo stesso programma. Con Venzon abbiamo parlato di molti argomenti, da come nasca per un giovane come lui, che prima era lontanissimo dal mondo politico l'idea di creare un partito, che già a livello nazionale è molto complicato, figuriamoci mettere in piedi una realtà di questo tipo, e di tutta una serie di argomenti che ci troviamo ad affrontare spesso nelle normali puntate di Breaking Italy. L'europeismo, la questione migratoria, i valori democratici, è cosa fare con i paesi interni all'unione che sembrano progressivamente allontanarsi da questi ideali. Purtroppo ormai la direttiva del copyright, quella è passata, e quindi l'abbiamo solo sfiorata. A tal proposito, avete mai pensato alla possibilità di usare un VPN? Perché per questa puntata ho trovato uno sponsor interessante che si chiama NordVPN. È un servizio professionale, quindi niente malware, niente ads, niente cose strane, che permette, lo sapete, di proteggere e anonimizzare i dati personali della propria navigazione online quando si va sull'internet. L'uso di questo strumento è in alcuni paesi con restrizioni governative, diventato pratica comune fondamentalmente, e potrebbe essere così anche nel Regno Unito, immagino, dove il governo si appresta ad approvare regole ancora più stringenti sulla visione di contenuti per adulti. Vi lascio un link in descrizione, se foste interessati, o potete utilizzare la parola Breaking, cioè il mio nome di battesimo, come tutti sanno, come promo code durante il checkout. C'è un pacchetto particolarmente vantaggioso che costa poco meno di 80 euro per tre anni, quindi circa 2,60 euro al mese, qualcosa così. Con il codice risparmiato il 75%, c'è un mese gratuito, anche un sistema di rimborso, nel caso non foste soddisfatti. Ultima cosa, poi vi lascio a Venzone. Essendo la puntata a zero, abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico che abbiamo già risolto, non vi preoccupate, per le prossime puntate tutto a posto, ma è bene che lo sappiate. Ad esempio, la qualità audio migliorerà dopo questo primo segmento, e se all'inizio notate un eccessivo uso dell'inquadratura generica, cioè questa, non è perché volevo l'inquadratura solo su di me, è perché la videocamera su Venzone all'inizio non funzionava bene. Di nuovo, abbiamo risolto, è andata così, è la puntata a zero, ma soprattutto la chiacchierata era troppo interessante per privarvene a causa di qualche inconveniente tecnico. Vi lascio al podcast, versatevi qualcosa da bere, sarà interessante. Andrea Benzon, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te. Diventi improvvisamente professionale adesso, diventi un politico. Devo, devo comportarmi. Come ti senti in questa, questa ammise da poli? È un'arba nuova per te, no? Beh, naturalmente è un'esperienza nuovissima, perché io, prima di iniziare a volte, venivo dal settore privato, ero una persona che non era di sicuro abituata ad andare nei media o in televisione, in radio, quindi tante cose nuove. Devo dire che da una parte è una difficoltà, perché ovviamente devo imparare, dall'altra però forse aiuta anche, perché sono, non riesco a essere molto politico certe volte, magari sono più diretto, più me stesso. e questo credo che piaccia alle persone, credo che piaccia ai nostri volontari, credo che piaccia a chi segue Volt, perché si vede che siamo dei ragazzi che ci provano. E questa è una cosa che, secondo me, in politica serve molto, anche la voglia di far vedere che vuoi cambiare qualcosa, non perché hai magari un piano segreto dietro, o stai cercando di trovare una poltrona, ma è proprio perché vuoi, pensi che sia necessario mettersi in gioco. Ok, facciamo così allora. Siccome molte persone che ascoltano potrebbero non conoscere Volt, Dopo questa chiacchierata, vorrei che le persone, anche io, perché ho molte curiosità in realtà, avessero un'idea un po' a tutto tondo di cosa sta succedendo attorno a Volt. Partiamo quindi da te, tu hai detto, vengo dal mondo privato, giusto? Sì. Tu hai fatto il consulente? Esattamente. Di che cosa ti occupavi? Allora, io mi occupavo di consulenza del settore privato e pubblico, quindi lavoravo sia con aziende private, che per esempio ha aiutato, ho lavorato col team per trasformazione digitale, durante un periodo di master che ho fatto dopo che ero stato consulente, quindi ho coperto diversi ambiti dal privato al pubblico. Ok, ma di cosa ti occupavi? Spieghiamolo semplicemente. Di cosa ti occupavi? Lavoravo per un'azienda, che mi mandava nelle aziende ad aiutare per esempio a migliorare le vendite, o a fare in modo che i processi interni fossero più efficienti, o che appunto ci tagliassero i costi, cioè le classiche cose che fanno i consulenti per vivere. Tu sei laureato in... Sono laureato in economia. In economia, perfetto. Sono laureato in economia. Gli Stati Uniti? Ho fatto un po' di ricerche. Hai fatto un po' di ricerche. Noi ho fatto la triennale a Milano, qua in Italia, poi ho fatto un anno di master a Londra, ho iniziato a lavorare, e poi questa stessa azienda, dato che io ero stato... ero apprezzato, mi ha mandato anche negli Stati Uniti a continuare la mia formazione, ed è lì che mi sono interessato di più di amministrazione pubblica, diciamo in settore pubblico. E detto quello, ho lavorato per il team per la trasformazione digitale di Diego Piacentini a Roma, per un'estate, e poi da lì, diciamo, mi è avuta l'idea di volte, infatti poi parliamo di volte, e ho cominciato a dedicarmi a tempo più una volta, e ho dovuto lasciare il lavoro per incompatibilità e tempi anche. E ti ha dato delle skill particolari, cioè questa esperienza, in qualche modo avrai cercato di trasportarla nella tua esperienza politica, che sta appena iniziando, quindi... Sì, assolutamente, cioè diciamo, infatti una cosa che diciamo sempre in volte è che siamo molto ben organizzati, ed è perché di sicuro io e anche altri abbiamo portato delle competenze non tipiche della politica, quindi l'organizzazione di volte, per esempio noi abbiamo gli stessi team, presenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo in tutta Europa. Gli stessi team in che senso? Per esempio, non so, abbiamo una squadra di volontari che fa comunicazione, questa squadra di volontari a livello italiano, a livello lombardo, a livello milanese e a livello polacco, sono tutte coordinate allo stesso modo, quindi siamo molto efficienti, nel modo in cui portiamo avanti i nostri messaggi politici, nel modo in cui lavoriamo, quindi volontari di volte, che sono persone come noi, che hanno magari un'ora da dedicare al progetto, sono molto più incentivate a partecipare perché non perdono tempo, aiutano, sono all'interno di una macchina che funziona piuttosto bene, quindi questo è il mio aspetto più consulenziale che esce nel progetto politico, tutto il resto invece l'ho dovuto imparare da me, perché ovviamente la politica era una passione, seguivo la politica da sempre, però non avevo mai fatto politica attiva, non avevo neppure la membership di un partito, ero proprio una persona che seguiva, si interessava, ma non mi riconoscevo in un progetto politico, e poi da quando c'è stata la Brexit, e tutte quelle tensioni che conosciamo, che stanno un po' spuntando in Europa, quindi mi ricordo, era il 2016-2017, quindi c'era l'EPEAN che stava salendo molto nei pol, c'erano già i segni di quello che sarebbe stato poi il governo giallo-verde in Italia, c'era Trump in America, tutti questi elementi mi hanno portato a dire, mettiti in gioco, prova a fare qualcosa, e da lì nasce Olt. Perché, cioè quindi tu improvvisamente hai detto, entro in politica, creo un partito, così dal nulla. Sì, dal nulla proprio. Avevi quanti anni? Era circa due anni fa, quindi 25. 25. Mi ricordo ancora, l'idea nasce proprio il giorno dopo la Brexit, quindi era giugno 2016. Dopo il voto? Dopo il voto. Io ero al telefono con Colombe, che è uno dei tre fondatori, la realtà francese, e dicevamo, cavolo, cosa facciamo? È successa una cosa che, diciamo, cambiava i nostri piani, perché io volevo andare a vivere nel Regno Unito, a lavorare lì. Ok, quindi hai avuto questo trigger personale? Trigger molto personale, cioè il fatto di dire, per la prima volta nella mia vita, la politica ha impattato i miei piani, ha cambiato i miei piani, e non mi era mai successo prima, cioè non ero mai stato investito in prima persona da un evento politico. E mi sono detto, cavolo, è incredibile che non ci sia nessun partito, nessuna forza politica pronta a difendere quello in cui credo, pronta a offrirmi un'alternativa. E quindi ho detto, cosa serve in questo momento? Qualmente serve creare questa forza politica, non basta soltanto lamentarsi, essere tristi per quello che è successo, ma proviamo a metterci in gioco. Allora da lì nasce l'idea di creare una forza politica innovativa. E per innovativa, io da subito ho pensato qualcosa di europeo, perché purtroppo questi, diciamo, queste tematiche come la Brexit, sì, nascono nel Regno Unito, ma le stesse tensioni appunto si vedevano in tanti altri paesi. E poi comunque, avendo avuto la possibilità di conoscere persone da altri paesi europei, ho notato che molti dei problemi che affrontavamo erano comuni. Erano comuni, ok. La disoccupazione, non è che sia una cosa solo italiana, ma pure la burocrazia, probabilmente il cambiamento climatico e la gestione dei flussi migratori erano tutte cose che in tanti paesi io sentivo come problematiche da affrontare. Quindi ho detto, ma perché non c'è ancora una politica europea? E da lì... Ok. Ma visto che tu hai questa visione, immagino, un po' a tutto tondo, perché sei in contatto con i vari team di Volt delle varie nazioni, tu come presidente avrai una visione un po' dall'altro. Certo, sì, sì. Tra tutte queste questioni che mi hai citato, il cambiamento climatico, l'economia, il lavoro, eccetera, c'è il conflitto casta-gente, chiamiamolo così, perché quando io ho iniziato a parlare di Volt, è capitato più volte che parlassi con il mio pubblico di Volt, una delle critiche maggiori era di chi probabilmente non vi vuole votare o è molto scettico, è che siete casta, fondamentalmente. non te lo chiedo in maniera eronica, mi è stato proprio fatta notare ok, queste persone sono europeisti, guarda caso, vengono anche da buone università, tu hai fatto delle buone università, sei stato negli Stati Uniti, hai un certo tipo di percorso, questo tipo di conflitto, che innanzitutto cosa ne pensi di questo conflitto in Italia, ma soprattutto lo vedi accadere anche in altri posti, anche in altre nazioni europee? Allora, secondo me sicuramente Volt è iniziata da persone che magari hanno avuto l'opportunità di andare all'estero, questa è una cosa importante da sottolineare, cioè io notavo che specialmente all'inizio le persone che si avvicinavano di più erano quelle che non per forza per aver studiato all'estero, ma anche per aver lavorato all'estero, erano comunque avuto un'esperienza che gli facesse vivere l'Europa, questo era molto l'inizio, col passare del tempo però ho anche notato che più il progetto si eradicava nel territorio, più questo cambiava, cioè io ad oggi conosco moltissimi volontari di Volt che non hanno studiato all'estero e non sono mai andati all'estero, ma solo hanno l'interesse di partecipare a una forza nuova, giovane, che ha una visione più ampia, perché si sentono magari europei, perché la verità è che molti giovani specialmente, anche se non hanno avuto grandi opportunità di capire o visitare l'Europa, non riescono più a pensare che l'Italia è separata da tutto il resto e magari dicono beh ma perché sto qua a litigare con i francesi quando non mi insegnerei mai di avere un conflitto con i francesi o mi insegnerei mai che in Europa noi potremmo essere divisi di nuovo. Quindi noto che specialmente nella fascia giovane della popolazione questo sentimento di essere europeo o comunque di essere una comunità più ampia che solo l'Italia è diciamo condivisa da persone che non sono assolutamente per esempio l'elite della società ma sono persone comunissime mentre quando si va in effetti sulla fascia d'età un po' più elevata c'è un po' più divisione cioè c'è gente che ha avuto magari l'opportunità di viaggiare di più gente che ha avuto l'opportunità di viaggiare di meno e quello delinea un po' anche l'apprezzamento che uno ha o meno per l'Europa quindi quella divisione la percepisco quando parlo con persone in una certa età e forse è un po' il sintomo di quello che vediamo perché alla fine chi vota in Italia sono ancora persone purtroppo più anziane di noi in molti casi comunque la maggior parte dei votanti e quindi si delinea molto queste linee di rimarcazione quello che mi fa sperare è che in futuro non sarà più così perché comunque cioè state aspettando che muoiano i vecchi lettori no no però diciamo che anzi perché tutti io spero che i giovani vadano a votare in generale perché ricordiamoci che il grosso problema della Brexit è di molte altre elezioni che le persone sotto i 35-30 anni non vanno a votare quindi la loro voce non si sente e le persone che magari appunto hanno interessi diversi proprio per questione di generazione o persone di esperienze personali o questione di esperienze personali sono quelle in realtà che hanno una voce molto più impattante sulla politica e l'altro tema è sì comunque c'è un tema generazionale che io credo che la nostra generazione essendo nata in un'Europa comunque unita io sono nato l'anno del trattato di Maastricht quindi diciamo non ho non so mai esistito prima che l'Europa fosse esistesse secondo me vedono il mondo in maniera diversa vedono il mondo in maniera molto più coesa poi non tutti c'è sempre ci sono sempre le persone che hanno le visioni diverse ed è anche il bello della società però è più dentro il nostro DNA essere una comunità più che tanti gruppetti nazionali che si puntano di tua vicenda ok fammi premere ancora su questa cosa perché c'era anche una domanda del pubblico che mi chiedeva una cosa del genere cioè vediamo 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 ecco ad esempio Gabriele Alessio chiedeva come avete intenzione di farvi notare dagli elettori indecisi ma fuori dal vostro target perché quello è il punto tu continui a dirmi i giovani bisogna coinvolgerli però i giovani non sono la maggioranza delle persone e poi io ti sconsiglierei di creare questa sorta di di contrapposizione tra giovani e meno giovani altrimenti non lo so poi no no infatti non bisogna anche però io parlavo di un dato di fatto cioè proprio quello che succede che diciamo i giovani sono se non mai più europeisti naturalmente naturalmente e gli altri come li raggiungete? allora io la mia esperienza è per un partito nuovo con un'idea molto innovativa come la nostra ma che non ha grandi mezzi l'unico modo per raggiungere persone che non naturalmente si interessano a te è andare nei territori fare tantissimo tantissima presenza su territori eventi nelle varie città italiane noi siamo nati appunto da tre persone ora siamo circa 25.000 iscritti solo in Italia abbiamo 75 squadre cittadine quindi lavoriamo davvero diciamo ogni settimana a fare eventi Cagliari Nuoro Alentini in Sicilia cioè in tante piccole comunità noi stiamo costruendo una presenza costante perché? perché ci sono tante persone che magari non seguono i social media magari non leggono la parte dei giornali non so la parte più politica dei quotidiani ma magari sono molto interessate al nostro messaggio e l'unico modo per portarglielo è farsi vedere sul territorio quindi il segreto di tutto il segreto per cui io sono sicuro che Volt continuare a crescere e riuscirà anche a coinvolgere persone che adesso non ci conoscono non è perché facciamo dei bei video o magari facciamo delle grandi apparizioni in tv ma è perché noi stiamo costruendo una rete che è in tutta Italia e non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole comunità ed è lì che le persone che normalmente non riceverebbero il nostro messaggio ci possono incontrare quindi è un lavoro ovviamente estenuante è un lavoro difficile non succede in un mese ma bisogna battere il ferro per tanto tempo e investirci cioè noi gran parte delle nostre risorse sono anche impegnati in questo sforzo cioè io come mi hai detto prima viaggio molto viaggio molto perché devo andare a conoscere persone andrò fuori lì e per creare queste squadre cittadine che poi possono portare un cambiamento locale quindi anche battersi su temi che alle persone interessano perché purtroppo l'Europa non è il tema che interessa a tutti cioè può essere una cosa che uno dice vabbè se mi interessa viva l'Europa però quello che mi interessa è che le mie strade siano pulite che le tasse siano più basse o che questo problema locale sia risolto ed è quello che nostre squadre fanno quindi fammi capire questo cioè voi siete un partito europeista quindi europeo anzi siete voi un partito europeo il primo che dovrebbe essere perché si presenta mi sembra di capire con lo stesso programma dappertutto immagino il vostro obiettivo sia quello di entrare poi ne parleremo meglio nel Parlamento Europeo e vuoi fare un gruppo vostro solo volte esattamente quella è un po' l'idea che è complicato è molto complicato perché diciamo bisogna non soltanto eleggere 25 euro parlamentari con un numero ovviamente significativo ma da 7 paesi diversi quindi questo è quello che noi ci siamo posti come obiettivo a questo giro non ce la faremo ma lo sapevamo era un po' l'ambizione ma per il 2024 quello è già su radar ci stiamo organizzando verso quell'obiettivo perché non soltanto è diciamo una cosa rivoluzionale che non è mai stata fatta cioè un partito unitario in tutti i paesi non ha mai creato un gruppo indipendente ma è anche un messaggio molto forte cioè quella è la testimonianza che la politica europea si può fare se ce la faremo perché sarà la prima volta che lo stesso partito si siederà magari dal comune di Novara al Parlamento di Roma a Strasburgo con lo stesso programma le stesse idee e le stesse persone quella è proprio la visione ok quindi questa è la visione europea l'ho capito ma per la questione del radicamento locale invece non sono così sicuro perché cosa può dire un partito europeista a livello locale vabbè lì bisogna combattere su diciamo le idee che noi portiamo avanti quindi l'Europa rimane sullo sfondo perché è una delle nostre grandi forze che possiamo mettere in comune le migliori pratiche quindi se io voglio risolvere un problema dell'acquedotto di Benevento non so ci sia un acquedotto a Benevento posso guardare posso guardare tutto quello che succede negli altri paesi ed è così che funziona le nostre squadre interne quindi ci sono squadre che fanno politiche che lavorano assieme in tutta Europa quindi dicono guarda qua Stoccolma noi abbiamo risolto questo problema in questo modo magari avete lo stesso problema guardateci ed è così che noi abbiamo anche messo insieme un programma molto ambizioso molto anche serio sì questo è il programma per l'europeo ma ci sono anche 200 pagine di programma dettagliato molto dettagliato e senza avere sai un team di 200 esperti ma utilizzando quello che già esiste in Europa e mettendo la foto al comune che è una possibilità enorme per un partito europeo perché è qualcosa che un partito nazionale non fa ma non Salvini ma anche un gentilone nella situazione avrebbe difficoltà a dire guarda copio il sistema pensionistico tedesco è un messaggio che un partito nazionale ha difficoltà a portare un partito europeo fa quello ampiamente e anche sfruttando nel meglio quindi noi proprio lavoriamo per portare in Italia o in altri paesi le cose che funzionano meglio dagli altri paesi però ciò che funziona bene in Germania o che ne so in Bulgaria non necessariamente funziona bene in Italia assolutamente per quello che ovviamente non copiamo in maniera diciamo cieca tutto quello che succede all'estero però ci sono tantissime ottime idee c'è l'amministrazione digitale estone è qualcosa che esiste da vent'anni in estonia si vota pure online e ovviamente con tanti problemi hanno dovuto sviluppare sistemi molto avanzati per poterlo permettere ma noi in Italia invece di reinventarci la ruota abbiamo tantissimo che potremmo importare che potremmo importare questo è un esempio perfetto però tu sei un idealista mi sembra di capirlo dalle prime battute io sono molto pragmatico vorrei capire una cosa quindi voi pensate che politicamente a livello di consenso possa funzionare andare nei piccoli comuni e dire guardate che noi risolviamo i vostri problemi come li abbiamo risolti che ne so a Edimburgo guarda secondo me ti dirò di più non solo lo penso ma lo dimostreremo a breve perché a Novi Ligure è fare un nostro primo test elettorale questo maggio ok e abbiamo già un programma online abbiamo già una squadra che sta lavorando sul territorio e ovviamente alcune sono idee anche originali cioè mi ricordo la prima idea del programma è portare il mare a Novi Ligure Novi Ligure è una piccola città piemontese sul confine con la Ligure non ha il mare l'idea è quella di mettere a fattore comune insieme diciamo gli operatori i benefici che la riviera Ligure porta agli operatori turistici per fare in modo che i turisti vengono anche portati a Novi Ligure per esempio a provare le specialità locali per farti un esempio questa è un'idea originale del team locale quindi noi portiamo anche sul territorio ovviamente delle idee nate dal territorio perché una cosa che facciamo sempre è ascoltare un esercizio molto faticoso che abbiamo portato avanti è quello dei listening tour quindi abbiamo persone che i tour di ascolto praticamente che girano l'Italia chiedendo ai cittadini quali sono i loro problemi e quali secondo loro possono essere delle soluzioni facendo questo grosso lavoro di ascolto della cittadinanza abbiamo estratto ovviamente le proposte completamente originali da parte di Volt per i vari comuni in aggiunto abbiamo anche questa cosa aggiuntiva di poter vedere cosa già funziona in altri paesi quindi diciamo è un misto la proposta politica è un misto di idee originali e anche un po' copiate dall'Europa e secondo me ha molta molta possibilità perché alla fine è quello che importa alle persone a livello locale risolve i veri problemi ok questo diciamo che vale per i comuni quindi effettivamente nel comune c'è un rapporto differente con l'amministrazione perché tu vuoi che ti riparino la buca vuoi che funzionino i trasporti eccetera a livello regionale questa cosa normalmente già cambia perché il voto diventa un pochino più ideologico tu voti il partito poi in realtà alle volte succede anche a livello locale ma passiamo al livello regionale dove succede più spesso diventa un pochino più ideologico quindi le persone votano diciamo i grandi temi o quelli che vengono percepiti come i grandi temi in questo momento storico potrebbero essere sai le migrazioni potrebbero essere la sicurezza potrebbero essere questo tipo di lavoro eccetera quindi io vorrei capire voi siete un partito progressista fondamentalmente perché io sto pensando alla cosa più simile a voi se tu mi direi che non è così che è il PD non è così no però ci sono dei temi in comune ok ci sono dei temi in comune ti dico questo non perché voglio dirti che siete del PD ma perché il PD è un partito che io vedo di sinistra è un partito diciamo di sinistra con una componente social democratica una liberal democratica e poi europeista soprattutto adesso c'è questa sorta di braccio che si chiama siamo europei che è europeista però è un pezzo del PD voi siete principalmente europeisti e poi mi sembra che siate progressisti sì è una buona descrizione ovviamente l'Europa è nel nostro DNA e poi le battaglie per le volte avanti sono nello spettro politico progressista quindi siete verrete facilmente assimilati o considerati vicini alla sinistra dall'elettorato italiano dico succede succede noi come tu pensai appunto non ci dichiariamo di sinistra e di destra che l'ho già sentita questa cosa esatto non perché di moda in Italia funziona bene ma perché in tutta Europa la sinistra e destra sono molto diverse quindi quando si parla di sinistra italiana sinistra portoghese sinistra polacca sono cose radicalmente diverse ma anche destra ovviamente quindi noi abbiamo detto invece che metterci delle etichette pensiamo alle soluzioni pensiamo a quello che vogliamo portare avanti e nel nostro programma sicuramente ci sono dei tratti ovviamente che hanno in comune per esempio la parte dei diritti civili da parte di anche welfare così ci sono più in comune con partiti come il partito democratico italiano e altri simili nel resto d'Europa poi abbiamo anche invece magari delle politiche più innovative più sull'economia sull'imprenditoria che invece magari sono più tipiche a quello che un partito liberale farebbe in Italia non abbiamo molti partiti di questo tipo quindi diciamo siamo un misto sì e quindi la conseguenza e poi il taglio europeista in Italia è molto associato in questo momento al centro-sinistra perché forse Italia sia Tajani che dovrebbe essere comunque un volto europeista però si è un po' smarcato si è un po' smarcato perché ha visto che non è quello che il suo elettorato tipico vuole quindi in questo momento storico si assomigliamo per certi partiti però ti direi è una fase è una fase perché prima di tutto essere europeisti va oltre i colori politici potrebbero esserci partiti fortemente di destra fortemente di sinistra europeisti perché l'idea di integrare invece che separare gli interessi nazionali può essere di qualunque colore politico e poi sono le proposte che portiamo avanti che interessano infatti come vediamo la nostra dichiarazione di Amsterdam abbiamo tutta la parte appunto sulla democrazia europea abbiamo la parte sulle opportunità economiche che ovviamente spinge più sul sul lato di aumentare proprio aumentare fammela dire in modo brusco la torta perché in Italia quello che succede è che è da vent'anni che la torta nel senso il PIL italiano è fermo quindi noi vorremmo far aumentare anche la torta italiana fare in modo che le imprese tornino a investire in Italia fare in modo che ci sia più benessere economico e poi c'è tutta la parte di sostenibilità e diritti che invece è più diciamo focalizzata appunto su aiutare i cittadini e fare in modo che il continente in cui viviamo rimanga quello che è negli prossimi vent'anni ok vorrei espanderla questa cosa dei diritti però prima non voglio perdermi questa domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi del PD insomma perché due cose in Italia innanzitutto storicamente i liberali non hanno grande non hanno grande supporto i radicali diciamo che sono stati un partito molto liberale guardando al passato non sono mai stati effettivamente una forza maggioritaria in Italia probabilmente proprio perché mancano di quel trasporto ideologico che invece il conservatorismo che ne sono invece le cose legate al welfare legate al lavoro della sinistra trasportano come valore sociale che poi aggancia le persone e le fa dire io sono di sinistra io sono invece di destra i liberali hanno sempre sono sempre stati un po' free questa cosa come la superate con delle alleanze avete intenzione di fare alleanze ad esempio? sicuramente in futuro potrà succedere noi non siamo identitari alla 5 stelle che poi tra l'altro si sono anche un po' smentiti al momento clou ma non siamo identitari in senso che non vogliamo lavorare con gli altri che il viola è più bello di tutti gli altri colori quindi non vogliamo in questo momento storico in questa campagna dettagli europee noi abbiamo deciso di accogliere firme e poi non aggriarci ad altri partiti perché ci stiamo ancora sviluppando quindi dobbiamo ancora costruire un'identità forte un radicamento non volevamo neanche far passare il messaggio che lo stiamo facendo per una poltrona quindi è per quello che in questa campagna elettorale non ci siamo alleati però invece chi va l'ha chiesto? l'ha chiesto più Europa? tanti partiti il PD l'ha chiesto? sì c'è stato al nostro congresso di Roma gentilone dal palco c'è che sono volano entrare nelle liste anche Emma Bonino dal palco stessa cosa quindi c'è stato tanto interesse a quei partiti appunto che abbiamo citato prima che specialmente portano il messaggio europeo con grande forza e per questa tornata ben detto meglio di no continuiamo a fare il nostro lavoro sul territorio sviluppiamoci non mettiamo subito diciamo il nostro progetto in gioco per magari diciamo togliere dei voti a qualcuno dar dei voti a qualcun altro ma aspettiamo il nostro turno quindi però non siamo ideologicamente chiusi alle alleanze cioè potrà succedere che alle regionali alle politiche ci siano delle collaborazioni perché alla fine se un programma politico ha delle coerenze se vogliamo portare avanti delle battaglie comuni si sa che non è che si può stare tutti separati magari bisognerà anche lavorare assieme ok quindi non avete l'approccio dei 5 stelle che hai citato tu che assolutamente non ha alleanze che poi in realtà è stato smentito dopo successivamente però era un approccio quasi di purezza solo noi abbiamo il potere voi non avete questa cosa no non ce l'abbiamo cioè noi pensiamo ovviamente di fare un ottimo lavoro ovviamente abbiamo la componente pane europea quindi per esempio prima di fare un'alleanza in Italia controlleremo sempre questa alleanza da un impatti su altri paesi perché questo è un altro tema molto importante cioè uno degli elementi che anche ci ha un po' scoraggiato a collaborare a livello di queste europee era il fatto che sapevamo che se noi ci fossimo associati a un'altra famiglia europea ovviamente altri paesi sarebbero stati potenzialmente colpiti da questa cosa quindi abbiamo detto è una dinamica ancora difficile da capire perché la politica europea si sta sviluppando non è ancora chiarissimo la sfera pubblica europea non è ancora chiara quindi diciamo abbiamo anche quell'extra check sul fatto di fare alleanze o meno non deve diciamo disturbare il fatto che siamo un momento pane europeo quindi stessa cosa in tutti i paesi però non siamo chiusi a prescindere chi lo deciderebbe come funziona? all'interno guarda all'interno noi abbiamo ovviamente un'assemblea generale europea in cui ci sono tutti i membri da tutti i paesi che ha un'esperienza particolare perché siamo l'unico partito che lo fa in questo modo cioè se tu sei tesserato di Volta Italia hai sia la tessera di Volta Italia che la tessera di Volta Europa quindi partecipi ad entrambe le assemblee generali poi abbiamo ovviamente un consiglio direttivo europeo in cui io siedo che diciamo è responsabile della linea politica e dell'operatività del partito e poi abbiamo questo consiglio diciamo più nazionale in cui siedono i rappresentanti dei vari partiti in questo momento sono i presidenti probabilmente in futuro diventeranno dei rappresentanti mandati apposta perché per separare un po' le cose ed sono quelli diciamo incaricati nel mantenere una linea coerente politica attraverso i paesi quindi loro sono le persone che decidono se un'alleanza sia nociva o meno per tutto il movimento ovviamente poi sono sempre discussioni dibattiti non è che c'è la censura però c'è un voto a maggioranza se non si riesce a trovare un consenso però in generale è sempre diciamo è un organismo che sta sviluppando quindi ci aiutiamo a vicenda e l'Italia è stato il primo esempio in cui per esempio abbiamo detto forse dobbiamo stare più attenti che non perché associarci a una famiglia come Alde o una famiglia come socialisti di sicuro avrà degli impatti negli altri paesi anche minimi perché la verità è che molta gente non conosce l'Alde assolutamente però comunque l'abbiamo avuto diciamo nel retrocranio prima di prendere la decisione ho capito tu mi stai descrivendo un partito che sembra già molto strutturato cioè avete già l'hai detto anche prima abbiamo queste capacità di organizzazione delle quali insomma ti vanti ti vanti non ne sei orgoglioso non ne sei orgoglioso però in Italia non avete raggiunto i voti per rappresentarvi come mai? beh guarda in Italia c'è una legge davvero alcuni la chiamano liberticida comunque una legge siete voi alcuni nostri comunque una legge davvero davvero tosta perché raccoglie 150.000 firme con un notaio presente al banchetto o simile e 3.000 firme minima in regioni come la Val d'Aosta o il Molise è davvero una sfida democratica enorme perché 3.000 firme in Molise si parla di circa 3% dell'elettorato che venga a firmare i banchetti quindi noi avevamo preso questa sfida come anche un po' volano per testarci radicarci aumentare la presenza ma sapevamo che sarebbe stato davvero difficile quanto le avevate raccolte? abbiamo raccolto circa 30.000 quindi non male potremmo partecipare alle politiche secondo i criteri del 2018 avremmo potuto però diciamo era una sfida che sapevamo sarebbe stata quasi impossibile e questo ci fa anche chiedere ma perché le leggi elettorali europee sono diverse da paese in paese perché ricordiamoci che in un paese come la Germania con 4.000 firme si partecipa e non c'è lo sbarramento e non c'è lo sbarramento che invece qui ha altre percenti qua il 4 al 4% quindi questo comporta anche delle storture una volta che si va al Parlamento Europeo perché vuol dire che un partito che magari in Germania ha tirato su non so 0,8-0,9% dei consensi siede al Parlamento Europeo un partito italiano che pesa il 3,9% non si è dal Parlamento quindi questo è un grosso problema democratico dell'Unione Europea di rappresentanza ma questo è uno dei tanti compromessi storici fatti per creare l'Unione Europea ma che andrebbero risolti il prima possibile perché un Parlamento in cui da regioni diverse da paesi diversi espressioni politiche con paesi diversi vengono rappresentate comporta poi delle strutture nella decisione e quindi è davvero una cosa che fosse il mio potere cambierei subito ok parliamo di questo allora voi volete riformare l'Unione Europea cioè sapete questo obiettivo io mi sono letto i vostri programmi eccetera è molto ambizioso molto molto ambizioso come? nel senso l'Unione Europea tu lo sai però magari chi ci ascolta non lo sa ha il problema dell'incredibile peso che all'interno del procedimento europeo all'interno del funzionamento dell'Europa stessa ha il consiglio il consiglio che fondamentalmente blocca qualsiasi cosa non tutto il consiglio ma paesi che siedono nel consiglio che potenzialmente possono bloccare qualsiasi cosa non sia di beneficio per loro stessi quindi immagino che il vostro primo obiettivo anzi in caso di averlo letto sia proprio quello di cambiare il funzionamento dell'Europa come struttura quindi avere un presidente giusto? esattamente avere un presidente eletto andare verso un modello federale diciamo un primo ministro anche? è un primo ministro di cosa si dovrebbe occupare il primo ministro? beh come un primo ministro nazionale quindi tutte quelle competenze puramente europee che richiedono una presenza politica quindi noi per esempio chiediamo che il controllo dei confini il controllo delle immigrazioni diventino o la sicurezza diventino competenze puramente europee che è un passaggio molto interessante perché non vuol dire semplicemente dare potere all'Europa ma vuol dire cominciare a ragionare con un interesse pubblico europeo pensare che ci siano delle cose che vengono sia giusto che un organismo sovranazionale come quello europeo possano gestire facciamo un esempio dei rifugiati chiaramente noi da italiani abbiamo visto cosa succede nell'Unione Europea quando c'è una crisi perché noi siamo stati prima lasciati da soli e adesso siamo noi che invece quando arriva una barca ci comportiamo come al mercato del pesce dicendo tu ne prendi due tu ne prendi tre che secondo me è disdicevole per un continente come l'Europa però fa capire come quando davvero si arriva diciamo momento clou gli interessi nazionali prevalgono su qualunque altra cosa Macron grande proeuropeista ha chiuso i porti immediatamente a 20 miglia sono ancora chiuse le frontiere quindi chiaramente non c'è questo interesse europeo ancora noi di volte diciamo dobbiamo crearlo questo interesse europeo dobbiamo far capire che su alcune cose se decidiamo insieme se i cittadini europei decidono come cittadini europei invece che come stati c'è un sacco di beneficio perché in un sistema come quello appunto dei rifugiati dove non è una cosa che si risolverà domani anche mettendo un sacco di navi nel Mediterraneo è un problema che comunque una sfida che continuerà per tanti decenni perché ricordiamoci che nel 2050 ci saranno più abitanti in Nigeria che in tutta l'Unione Europea e quindi finché l'Africa non è un continente stabile un partner soldo per l'Europa questi diami che potranno risuccedere è fondamentale che l'Europa tutta ci lavori su questo problema ok però questo non risponde alla mia domanda perché no 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 perché ti avevo già sentito dire questa cosa che ovviamente è comprensibile ma il presidente dovrebbe essere eletto sì io sto pensando al presidente russo ad esempio col primo ministro che fa quali sarebbero le sue ah capito la domanda cioè come eleggere il presidente europeo voi vorreste fare eleggere un presidente europeo che quindi sarebbe come il presidente americano fondamentalmente il simbolo dell'Europa quindi poi un primo ministro che sarebbe il primo commissario diciamo esattamente un commissario europeo sarebbe un commissario europeo e quindi presiederebbe la commissione europea esattamente come se fosse un organo ministeriale come se fosse il governo italiano quindi un primo ministro che siede un po' lo Juncker di oggi ma con delle competenze un po' più chiare specialmente anche diciamo semplicemente chiamandolo primo ministro sarebbe molto più definito il suo ruolo cioè se io oggi chiedo ai miei genitori cosa fa il commissario europeo mi guardano come dire ah beh non lo sanno certo invece se io con dei primi ministri e dei ministeri definiti anche l'Europa comincerebbe a comportarsi come un governo ed è quello che secondo noi in futuro bisognerà raggiungere ovvio come dici tu è una cosa a lungo termine non è che succederà domani cioè il problema è che per fare questi cambiamenti serve una volontà politica fortissima da tutti gli stati e anche un processo legislativo lungo quindi riforma dei trattati sono cose che richiedono decenni almeno infatti secondo me è una cosa di cui sono molto orgoglioso anche che il nostro programma elettorale trovi sia misure di brevi termini per gestire appunto crisi e necessità necessità di oggi ma anche una direzione cioè noi diciamo noi vogliamo andare in quella direzione noi pensiamo che il livello giusto sia quello europeo per certe competenze noi vogliamo creare questo tipo di governance che ovviamente tu mi puoi dire beh è una cosa molto a lungo termine perché mettere un programma europeo perché quello che manca la politica è una direzione ad oggi anche cioè io come italiano non so se devo far nascere i miei figli qua o da qualche altra parte perché non so se questo paese tra cinque anni sarà messo meglio o peggio perché? perché la politica pensa di tre mesi in tre mesi noi abbiamo fatto il grande sforzo e anche che ovviamente ci espone anche ad attacchi di avere una visione di lungo periodo dire noi non solo vogliamo risolvere i problemi di oggi ma vogliamo anche rendere chiara la direzione che vogliamo prendere questa è una scelta di responsabilità è una scelta anche diciamo che non ti fa vincere voti perché non è detto che le persone siano per forza interessate alla visione che tu hai ma secondo me è una scelta molto importante perché fa capire che a volte non è qua appunto per mettere tre persone al Parlamento nelle prossime elezioni ma è qua per restare e qua per diventare una forza politica nei prossimi 5, 10, 20 anni cambi questo continente però diventate una forza politica così forte solo se effettivamente convince delle persone a votare assolutamente ed è per quello che abbiamo anche le proposte concrete di breve termine ad esempio nel breve termine sull'immigrazione cosa si potrebbe fare? beh sul brevissimo termine prima di tutto bisogna andare a negoziare nei consigli europei cioè un grosso problema di oggi è che il nostro il nostro simpatico ministro degli interni ma anche il nostro ministro degli affari europei non vanno a Bruxelles non vanno a Strasbourg cioè non si presentano ai tavoli quindi noi possiamo battere i piedi e sgomitare quanto vogliamo ma non sta succedendo cioè neanche stiamo proponendo un'alternativa non c'è un piano Italia per risolvere le migrazioni la sfida delle migrazioni una cosa che noi faremo ovviamente è dire ok questo è il nostro piano cominciamo a negoziare cioè se io domani fossi in una qualunque istituzione italiana e avessi la possibilità di interfacciarmi con dei partner europei direi ragazzi la prima cosa che vogliamo fare è questo piano sediamoci insieme per farlo perché la verità è quello che manca è che non c'è nessuno che lo sta facendo cioè ci sono i piani della commissione europea ma il governo italiano non partecipa e non ha alcun interesse a portare avanti la negoziazione ok però a prescindere dalla partecipazione del governo italiano il problema ritorna sempre lì gli interessi nazionali cioè la commissione può fare tutti i piani che vuole ma poi non riesce effettivamente a portarli avanti perché i paesi dicono no questa cosa per noi è un problema è un danno nazionale e siccome effettivamente poi è molto bello pensare al futuro secondo me sono d'accordo è un grande problema delle nostre democrazie che non pensano al futuro ma devono anche pensare al presente perché sennò perdono i voti e la gente non le vota più e quindi di fatto tutto il progetto naufraga come si fa? cioè come tu puoi andare e dire ok il nostro piano Italia è questo è la Francia è la Germania oppure Visegrad ti dicono no bisogna far vedere i grandi vantaggi dell'Unione Europea in ognuno di questi paesi cioè una cosa su cui i governi nazionali giocano da sempre è incolpare l'Europa e prendersi i vantaggi dell'Europa diciamo sulle proprie spalle perché? perché ovviamente conviene ma tutti i vantaggi dell'Unione Europea come i fondi europei che io cito sempre sono cose che possono cambiare la vita di milioni di italiani domani sono cose che i nostri governi non sfruttano e sono cose che ovviamente aumenterebbero anche l'apprezzamento dei cittadini verso l'Europa e quindi la possibilità di avere una forza politica più forte che spinga certi cambiamenti cito gli fondi europei perché come tu sai se mi hai seguito già sono ossessionato dal fatto che 60 miliardi di fondi europei in Italia non siano stati spesi e scadranno nel 2020 60 miliardi vuol dire perché ci segue da casa 1000 euro cittadino italiano e vuol dire 10 volte il reddito di cittadinanza cioè sono soldi che noi le nostre tasse sono state spedite a Bruxelles ci ritornano come fondi europei vincolati per esempio aiuti all'industria aiuti alle piccole e medie imprese programmi di sostegno per i giovani e sono cose che non utilizziamo e tra un anno saranno completamente perduti questo è un esempio perfetto di un beneficio che l'Europa comunque che il costrutto europeo porta alle persone e che i nostri governi nazionali non hanno interesse a sbloccare non ne parlano neppure e quindi quello comporta il fatto che la cosa migliore che l'Europa può fare sulla tua vita sulla tua vita personale non venga utilizzata quindi è un esempio perfetto di se io potessi domani sbloccherei questi fondi aiuterei le amministrazioni a non so con una squadra di coordinamento centrale per esempio a fare un piano d'emergenza per sbloccare questi soldi e sono sicuro che i cittadini vedendo gli impatti di questi soldi avrebbero poi molta più propensione a supportare per esempio cambiamenti a livello europeo ma finché questo non viene fatto finché l'Europa è soltanto come spesso è diciamo qualcosa a cui si accusa qualcosa a cui si punta il dito non avremo la possibilità di fare molto ma perché secondo te non vengono utilizzati perché non vorrei che la tua impostazione fosse quella di abbiamo pensato solo noi noi siamo quelli più bravi in realtà qualsiasi partito potendo trovare dei fondi sostanzialmente gratis li utilizzerebbe al volo per ringraziarsi i cittadini per guarda secondo me in questo momento in Italia mancano due cose ovviamente c'è tutta la parte di burocrazia di competenze mancanti che è il problema alla radice del fatto che i fondi europei non vengano utilizzati e per questo bisogna sia fare un piano cioè proprio un programma di mettere le competenze giuste nelle amministrazioni fare in modo che la burocrazia diventi più snella che non è una cosa che si può fare in un anno ma manca in realtà la volontà politica cioè Salvini Di Maio e così via che incentivi hanno a dirti ci sono 60 miliardi di fondi europei che noi non siamo stati in grado di spendere e che possono cambiarti la vita è proprio un messaggio politico diverso cioè loro hanno molto più scopa a dire no l'Europa non ci sta aiutando quindi io temo che questo grande spreco di risorse derivi da una volontà politica di non utilizzarli questi fondi perché sì non ci abbiamo pensato solo noi sicuramente molti anzi molte PMI molti imprenditori ci pensano tutti i giorni a come utilizzarli però se non c'è una forza politica che spinga fortissimamente questo tema e creare un sistema che in emergenza in un anno gli utilizzi non verranno spesi quindi io temo e spero di sbagliare ma temo che sia una volontà politica di non farlo quindi farlo apposta ma quindi tu parli di spingere le piccole e medie imprese la società civile a voler utilizzare questi fondi a creare dei piani per utilizzare questi fondi bisogna dare supporto purtroppo la verità è che accedere a questi fondi è molto difficile è un sistema burocratico fatto male ed è molto difficile accedervi io ho un esempio concreto so che a Fano che è una cittadina delle marche dove noi abbiamo un consigliere comunale che lavora anche per Volt è stato creato un punto Europa cioè due persone messe in una stanza esperti di fondi europei che aiutano le imprese locali e i cittadini ad accedere a questi fondi quello è un supporto molto concreto ed è tra l'altro basato sullo stesso modello che in Spagna e in Portogallo è diciamo completamente radicato nel territorio ed è il modo in cui le amministrazioni pubbliche hanno sbloccato grandi fondi europei hanno fatto in modo che il Portogallo e la Spagna siano cresciuti molto grazie a questi fondi purtroppo questo manca in Italia cioè io non saprei a chi rivolgermi se voglio voglio avere un supporto effettivo nel utilizzare questi fondi ed è quello che io farei non sarei fare grandi piani di emergenza bisogna dare agli imprenditori alle persone nelle piccole mie imprese un supporto per accedervi questo è quello che serve ed è quello che completamente manca in questo momento ok ho capito adesso ho capito un pochino cosa intendi però questo nella mia testa adesso è un po' in conflitto con un'altra cosa che ti avevo sentito dire cioè che ho anche letto nel vostro programma che è quello del salario minimo europeo ho visto che battete molto su questa cosa qui innanzitutto mi spiegheresti che cosa è esattamente è il reddito minimo europeo noi parliamo di reddito minimo europeo quindi il fatto che noi diciamo in tutta Europa ci deve essere un reddito minimo che le persone percepiscono per essere diciamo come cittadini dell'Unione Europea per essere parte di questo continente noi crediamo che se qualcuno guadagni meno comunque percepisca meno reddito in totale c'è un problema nel sistema e va risolto quindi standard europei perché perché se noi davvero vogliamo essere un continente unito se noi vogliamo davvero avere una visione comune di futuro non è possibile che in Bulgaria ci siano stipendi medi non so e redditi medi di conseguenza sono dieci volte inferiori rispetto alla Francia alla Germania bisogna cercare di livellare questo deficit cercare di portare tutti un po' più in alto ovviamente non portando la gente più basso ma sollevando un po' tutti ed è ovviamente uno sforzo molto difficile cioè è anche una questione di trasferimento di risorse di creare un'Europa davvero sociale ed è quello che stiamo cercando di portare avanti ecco tu ad esempio parlando di questo di questa dimensione qui avevi detto ti avevo sentito dire ripeto ho fatto molti compiti che questi fondi potrebbero appunto arrivare dai soldi non spesi dei vari paesi perché poi succederà in altri paesi anche in altri paesi purtroppo ok però questi sono soldi che non sono destinati a quello no sono soldi destinati ad altre cose sono soldi destinati ad altre cose quindi non si possono utilizzare nell'attuale regolamentazione non si possono utilizzare però l'idea sarebbe dato che sta finendo il budget europeo quei soldi non saranno spesi cosa succede? cioè i soldi rimangono a Bruxelles i soldi vengono utilizzati nel prossimo budget io avrei portato avanti avessi fossimo un'istituzione ogni volta avrei portato avanti immediatamente un piano per cercare di utilizzare queste risorse in modo migliore cioè di renderizzarli renderizzarli o comunque allora se non si possono mettere in un certo secchiello io utilizziamoli per un altro secchiello però l'importante è non sprecarli il mio grande timore da cittadino è che questi soldi vanno sprecati cioè che siano soldi che rimangono lì magari vengono utilizzati in mille diversi rivoli ma viene completamente perso il controllo sulle risorse su quello che noi abbiamo messo come cittadini che pagano le tasse quindi quel mio commento era molto da cittadino preoccupato ancora prima anche della politica da persona che dice ci sono tanti soldi solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi che non vengono spesi riutilizziamoli in qualche modo e anche quello con la volontà politica si può fare tutto cioè se le persone sono soldi che se i partiti volessero spendere si potrebbero spendere quindi dovremmo davvero fare questo lavoro di ottimizzare le risorse che abbiamo in politica si parla poco di queste cose di ottimizzare le risorse si parla sempre tagliamo le tasse diamo più investimenti lì però ci sono delle risorse bloccate che andremo a rendere il prima possibile a mio avviso ok allora facciamo finta che tu sei sei lì sei al governo sei il presidente dell'Europa e fai questa cosa ok quindi questi soldi vengono reindirizzati si possono improvvisamente utilizzare per fare questo questo reddito minimo chi paga cioè improvvisamente diciamo che tu fai questa cosa quindi cittadini europei tutti magicamente scoprono che ci sono questi soldi che di fatto poi sono loro sono comunque le tasse che vengono ok la maggior parte di questi soldi andrebbe in Bulgaria un paese che tu hai citato e non in Italia no? perché bisognerebbe riportare un equilibrio i sovranisti ti direbbero ad esempio che c'è un problema di redistribuzione cioè che poi di fatto questi fondi invece di essere utilizzati dagli italiani per gli italiani sarebbero utilizzati dagli italiani per i bulgari beh prima di tutto la fortuna degli italiani che in Italia abbiamo regioni con un reddito così basso specialmente sull'Italia che probabilmente molti di questi soldi in uno scenario teorico in realtà rimarrebbero in Italia beh si calcola il PIL totale non il PIL beh dipende si può anche regionalizzare no? si potrebbe ovviamente in Europa ci sono macro regioni per esempio il nord Italia che hanno molte più similitudini con per esempio il sud della Germania che all'interno del stesso paese quindi questo è un calcolo tecnico che non posso fare adesso però probabilmente ci sarebbe molto di più che dire soltanto nazionale ma si poteva anche lavorare per regioni per macro regioni comunque sì di sicuro alcune risorse andrebbero in paesi più poveri però e questo è anche diciamo l'idea di un'Europa unita no? se tu dici io voglio questo continente stia meglio perché? ma non perché sono un buon samaritano ma perché comunque a tutti conviene che i cittadini all'interno del mercato unico abbiano più potere di spesa possano viaggiare di più possano contribuire di più al benessere totale è anche giusto che ci sia un trasferimento di risorse ovviamente questo va compensato con per esempio il fatto che abbiamo un mercato unico proprio quindi diciamo le persone in paesi più avanzate economicamente hanno la possibilità di acquisire per esempio beni primari o diversi da paesi in cui i prezzi sono inferiori quello che succede tutti i giorni però questo non è accompagnato da una rete sociale da una protezione sociale per coloro che magari appunto producono quei beni a prezzi inferiori ma poi hanno anche stipendi molto molto inferiori rispetto a quello che si meriterebbero quindi sì è un lavoro ovviamente che trasferisce parte le risorse ma che ci fa bene a tutti perché se poi tutti stiamo meglio se tutti abbiamo accesso a un mercato ancora più solido e con merci ancora di più grande qualità è un bene anche per me che sono di Milano e che magari appunto sono in una fascia rispetto alla Bulgaria più avvantaggiata ma so benissimo che se in Bulgaria si muore di fame prima di tutto è una cosa tremenda dal punto di vista dei diritti umani per un continente come l'Europa ma so anche che non è un modello sostenibile perché prima o poi allora anche i bulgari chiederanno qualcosa giustamente perché te lo chiedo voglio premere ancora un po' su questo punto perché io posso diciamo in linea di massima essere d'accordo con questo concetto però recentemente sto cercando di approfondire la questione dei danni che la globalizzazione si dice che abbia fatto ultimamente perché poi il concetto di globalizzazione negli ultimi anni ha assunto degli aspetti critici che poi sono diventati importanti anche sfruttati da partiti diciamo di orientamento differente da Volt ma non solo recentemente io ho letto il libro di Carlo Calenda che cita in realtà vari altri scrittori come Harari che se ne è occupato e dice una cosa che secondo me è sensata cioè che ad esempio la globalizzazione è stata presentata nel mondo quindi parliamo della globalizzazione mondiale poi possiamo anche pensare a quella europea perché fondamentalmente il sistema è un po' simile con il dumping che viene fatto nei paesi tipo la Polonia praticamente secondo lui e anche secondo me il discorso della globalizzazione è stato presentato come ok ci saranno questi squilibri ma prima o poi tutti staranno meglio quindi si fa questa apertura del mercato si fa pensando a un mondo futuro non troppo futuro ma prossimo nel quale tutti staremo meglio che mi ricorda un po' quello che stavi dicendo tu adesso il problema è che la domanda è cosa succede nel frattempo perché noi ad esempio abbiamo visto ed è una realtà che mentre in questo frattempo il ceto medio italiano si è molto impoverito ad esempio proprio perché c'è stato il dumping e la fuga la delocalizzazione tutti questi elementi che sono andati a beneficio di paesi emergenti come appunto la Polonia l'Ungheria tutti quelli più a est quindi tu stai riproponendo lo stesso schema fondamentalmente io sto in realtà proprio dicendo è importante che la globalizzazione da sola o comunque diciamo il percorso che stiamo affrontando impoverisce certi ceti di popolazione e ne arricchisce altre quindi sto dicendo è importante che anzi un'istituzione come l'Unione Europea abbia delle contromisure per questo e questa ristribuzione per esempio aumentare il reddito minimo dove è meno diciamo dove c'è più povertà in poche parole è proprio una di quelle misure quindi sto dicendo sì la globalizzazione ha fatto del bene ha fatto anche chiaramente ha causato anche dei problemi cerchiamo di mettere un limite a quei problemi e per esempio se il ceto medio italiano è stato impoverito io sono sicuro che da un'operazione del genere l'Unione Europea aiuterebbe il ceto medio italiano e non lo impovererebbe ulteriormente perché in questo momento prima di tutto stiamo sprecando dei soldi però in generale diciamo prima di far raggiungere il ceto medio italiano il livello per esempio il ceto medio tedesco il ceto medio francese purtroppo che fino a vent'anni fa era al nostro stesso livello adesso io temo purtroppo per la politica distruttiva che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni siamo rimasti molto indietro avvanteggerebbe incredibilmente i cittadini italiani e poi ovviamente come detto prima tutto questo va anche regionalizzato e va considerato anche proprio per i pezzi delle merci quindi ovviamente il reddito minimo bulgaro in questo momento non sarà mai come il reddito minimo italiano perché ci sono situazioni economiche molto diverse quindi va adattato indicizzato al costo delle merci locali alla qualità della vita locale però io vedo un sacco di benessere nel poter mettere diciamo rafforzare la parte sociale dell'Europa fare in modo che l'Europa non sia soltanto un mercato ma abbia anche una rete sociale che aiuti le persone che vengono che hanno come hai detto tu subito i vantaggi negativi del mercato perché apri il mercato ovviamente qualcuno può diciamo avere impatti negativi perché ci sono altre persone che più competitive perché il costo del lavoro è più basso in poche parole infatti quindi però fondamentalmente tu stai dicendo in un modo molto molto razzicogolato molto complesso che il problema lo devono nuovamente pagare le aree diciamo le aree geografiche per non dire i paesi più ricchi e come li convinci? ecco diciamo non ti votano no ma quello secondo me è proprio il costo di stare in una struttura europea cioè se tu vuoi avvantaggiarti di mercato unico avvantaggiarti di tutti i benefici che l'Unione Europea ha portato ci sono delle conseguenze più l'Europa si integra più queste conseguenze devono essere limate devono essere gestite diciamo il modello di oggi in cui abbiamo un mercato unico in cui appunto ci sono questi grandi squilibri e non c'è un sistema per gestire questi squilibri è un altro dei paradossi storici dell'Unione Europea ma come l'euro abbiamo una moneta unica ma non abbiamo un budget per supportarla o come il Parlamento Europeo abbiamo un organo un'istituzione unica che non ha ancora potere legislativo pieno cioè sono tutte cose che vanno aggiustate quindi io ti direi sì magari alcuni non saranno contenti ma io credo che nel complesso è l'unica strada cioè l'Unione Europea o si rafforza e si struttura o andrà dispersa perché come dici tu perché io italiano devo rimanere più povero nel lungo termine chiaramente non mi conviene stare in Europa quindi questi questi aggiustamenti per l'Europa non sono soltanto sogni europeisti ma sono cose necessarie per rendere il progetto molto più solido quindi io ti rispondo sì magari alcuni grandi imprenditori tedeschi non saranno contenti di questa cosa non saranno i nostri primi votanti ma ci sono anche tanti tedeschi di buona volontà che sanno che l'Unione Europea gli fa bene gli conviene quindi sono disposti a non soltanto prendere i benefici ma anche le conseguenze negative quindi fondamentalmente il vostro la vostra strategia politica mi sembra di capire quella di cioè voi dovreste essere alla guida di tutti i paesi europei che possono mettere il veto quando si parla di cambi ritrattati ad esempio diciamo o comunque costruire balcanizzare completamente no bisognerà costruire comunque un fronte politico che sia a volte o partiti simili a volte o magari anche altri partiti pane europei perché io spero che nei prossimi 5-10 anni ne arrivino altri io spero che a volte sia un precursore ma arrivino altri attori politici con le stesse caratteristiche che porti avanti questa battaglia per riformare l'Europa ognuno poi avrà diciamo una visione diversa però finché non ci sono partiti europei che portano avanti battagli comuni tutto quello che ci diciamo non succederà quindi io sono incredibilmente contento che a volte sia aprendo la pista aprendo portando avanti un messaggio innovativo in questo senso perché credo che sia un momento storico l'ho detto in un paio di miei interventi anche questi europei sono sì un tassello importante ma la verità è che la battaglia per l'Europa se lo voglio neanche chiamare così sarà nei prossimi 5-10 anni cioè o si fa l'Europa o si disfa perché come dici ci sono troppe storture stanno cominciando a cambiare la vita dei cittadini profondamente e vanno aggiustate se no non c'è speranza quindi la mia risposta è dobbiamo creare un fronte politico che in tutti i paesi porti avanti questi messaggi ti dico di più volte non è soltanto non è successo soltanto in quei paesi magari più sfortunati lasciati indietro in Germania e Olanda che sono di sicuro due paesi molto avanti economicamente è dove volta ha più probabilità di eleggere a questa tornata abbiamo squadre molto forti persone che capiscono il valore dell'Europa capiscono quanto bene gli ha fatto e che vogliono aggiustarla prima che sia troppo tardi ok ho capito quindi mi sembra molto ambizioso anche molto interessante quello che mi stai dicendo cioè tu vorresti che di fatto Volt ispirasse altri partiti paneuropei con degli obiettivi differenti quindi anche con un orientamento politico differente cioè dovrebbe esistere un Volt più a destra un Volt più a sinistra assolutamente penso che quando arriveremo a quel livello ci sarà davvero una politica europea cioè Volt noi non prenderemo mai il 100% della popolazione giusto quindi in questo momento siamo dei pionieri già questo vi rende diverso dai cinque stagli non prenderemo mai il 100% no ma in un sistema democratico è giusto e bello e viene così quindi quando ci saranno attori come noi che hanno sfumatori diversi di quello che vogliono dall'Europa o da questo continente finalmente avremo un vero dibattito politico europeo perché la verità è che oggi ancora quando cioè noi facciamo campagna in tanti paesi ma quello la politica è ancora molto nazionale cioè spesso volte viene addirittura rappresentata nelle sezioni esteri dei media nazionali mi ricordo la mia prima intervista sul Corriere finì nella sezione esteri come italiano che parlava di un partito italiano e pane europeo quindi c'è ancora molto lavoro da fare per costruire uno spazio politico europeo e sì mi auspico che altri si aggiungeranno a noi questo vorrà dire che avremmo preso la strada giusta ma perché dovrebbero ad esempio perché un partito di destra dovrebbe fare questa cosa se vuole sfasciare l'Europa la destra sta andando lì è quello che Salvini sta cercando di fare non solo lui però vedi Salvini diciamo prendendo l'esempio di Salvini prendendo anche l'esempio di Macron loro hanno fatto da una parte europeista l'altro anti-europeista la stessa cosa pertendo a presupposti nazionali cioè un compromesso con altri partiti che più o meno la pensano nel stesso modo per un'elezione o con una visione limitata da alcune cose io credo che spero che non succeda presto però credo che anche se la destra sovranista si organizzasse in tutta Europa vorrebbe dire che ci arriverà un dibattito europeo sul tema quindi vogliamo che l'Europa diventi aumenti le competenze dell'Europa o diminuiscano questo è importantissimo per un continente che ha de facto tantissime competenze in comune tantissimi poteri messi già nell'Unione Europea e il fatto che non ci sia un dibattito politico che le interessi è un problema cioè il fatto che la commissione sia vista come un organo probabilmente tecnico spesso o i burocrati europei è un problema enorme perché comunque ci sono scelte politiche che cambiano tantissimo la vita nei nostri paesi e io vorrei un dibattito politico a quel livello beh ma è vista così di nuovo perché il potere di fare e disfare le cose principalmente è nelle mani del consiglio alla fine esatto e quindi è una struttura storica gigantesca cioè io vorrei che il Parlamento europeo fosse sovrano più che il consiglio poi ci sta una camera possiamo chiamare lo senato consiglio che rappresenti in modo uguale tutti i paesi come negli Stati Uniti è completamente normale però il fatto che tutto il potere risieda lì e che quindi anche magari un piccolo paese di 500 mila abitanti possa bloccare completamente una riforma che può interessare 499 milioni di persone è un problema democratico vuol dire che non c'è una vera democrazia europea e quindi bisogna essere estremamente critici su questo e dire dobbiamo costruire questa democrazia europea perché se no il progetto europeo non può continuare sarà sempre vista come una cosa di burocrati una cosa di negoziazioni tra interessi nazionali e diciamo è tutto il concetto di Volter è chiuso in questo a questo proposito credi che credo che ci fosse una domanda simile tra quelle che mi erano state fatte perché io penso ad esempio conosci my country europe sicuramente sì eh sì ho una pagina facebook sì sono un gruppo di attivisti io li cito spesso infatti li ringraziano li trovo divertenti perché fanno una cosa che secondo me non c'è cioè cercano di creare un'identità culturale europea fondamentale voi avete delle strategie in tal senso c'è ad esempio Nino Matafu eccolo qua che mi chiede qual è la strategia comunicativa politica che consideri migliore per avvicinare la popolazione degli stati membri alla realtà europea cioè c'è questo discorso dell'identità culturale assolutamente prima di tutto il fatto di avere un programma comune che può sembrare una cosa minima ma in realtà è fondamentale per un progetto politico il fatto che in questo momento in Spagna in Portogallo in Olanda in Germania persone come me che rappresentano Volta stiano dibattendo sugli stessi temi portando avanti le stesse iniziative è già diciamo una base di un'identità comune politica che non esiste ad oggi perché il partito democratico il partito socialista il partito democratico italiano il partito socialista francese siedono assieme al Parlamento europeo ma hanno programmi che possono essere completamente diversi quindi quella è la prima cosa la seconda cosa è creare una rete di persone quindi noi abbiamo appunto questi 25.000 membri ma all'interno di Volta sono tutti sulla stessa piattaforma come se fosse una grande community interna queste persone dibattono di politica tra di loro parlano tra di loro condividono esperienze e questo è già una cosa che non esiste normalmente noi diciamo siamo più democratici da quel punto di vista abbiamo uno statuto presente sul nostro sito che mostra come lavoriamo però questa è già un'iniziativa che comporta il fatto di creare una comunità politica ovviamente la grande barriera è sempre il linguaggio ricordiamo perché il grande problema di una politica europea a mio parere è il linguaggio quindi noi ovviamente abbiamo i traduttori online e tutto ce la caviamo però questo siccome sarà la grande sfida anche nei prossimi 10-20 anni fare in modo che in tutta Europa si riesca almeno diciamo la maggior parte della popolazione a parlare un inglese o se scegliamo l'inglese ma credo di sì sarà l'inglese come seconda lingua diciamo ben conosciuta perché se no creare un dibattito europeo una cultura europea un'unità europea sarà molto difficile quindi io sono un forte promotore per esempio dell'idea di espandere l'Erasmus in maniera anche vertiginosa cioè perché l'Erasmus è diciamo un esperimento che ha portato alla creazione di una piccola identità europea in alcuni pochi fortunati che hanno avuto la possibilità di accedervi se quello fosse esteso ai licei agli istituti tecnici agli istituti professionali eppure magari agli insegnanti ai professionisti creerebbe davvero una coscienza europea perché quando la gente va all'estero riesce a comunicare con le altre persone e vede che i problemi e le speranze sono comuni si crea questa identità quindi io sono assolutamente convinto che vanno fatti sforzi in questo senso cioè a volte lo fa nel suo piccolo per il momento e lo espanderemo ma diventare una cosa sistematica quindi non parli di qualcosa di obbligatorio parli comunque di spingere le persone obbligatorio è sempre una parola brutta però diciamo sarei molto contento se tutti i vicinari italiani avessero potuto di passare un anno all'estero in una scuola in un altro paese per imparare l'inglese e conoscere una cultura diversa tutto questo ovviamente fosse coperto diciamo le spese fossero coperte in modo che fosse accessibile per tutti che poi sia obbligatorio o no lo lascerò al ministro di istruzione futuro tu l'hai fatto l'Elasmus? io no ho fatto uno scambio culturale in Inghilterra che è servito in tal senso assolutamente cioè io all'inizio ovviamente magari ero stato in vacanza con gli amici in Francia in macchine e tutto però non avevo avuto ancora l'opportunità di crearmi diciamo un gruppo di amici europeo e lì ne ho avuto la possibilità ho migliorato anche le mie ovviamente conoscenze linguistiche ma ho visto come le persone appunto se le metti in una stanza non conta dove vengano ma sono si mette subito a fattore comune le belle esperienze le brutte esperienze si litiga si discute ma si è parte in una famiglia e secondo me questa è l'Europa cioè noi abbiamo tante differenze culturali belle e giuste ma siamo alla fine una grande famiglia perché io ripeto sfido chiunque della mia età ma chiunque anche ormai di ogni generazione a pensare che ci possa essere un conflitto in Europa ad oggi quindi noi ormai siamo più che dei popoli diversi siamo un popolo europeo e questo però deve essere anche tradotto poi in iniziative politiche culturali e così via Stavo mentre dicevi questo stavo pensando una cosa perché io in realtà spesso ho citato la questione della pace a livello proprio di guerra di conflitto come una delle grandi cose che l'Europa ha fatto non è quella che si cita sempre il conflitto l'abbiamo allontanato dopo la seconda guerra mondiale eccetera ma ora recentemente ho visto un tuo tweet perché di nuovo frugando frugando nel quale tu condannavi in realtà un modo di fare lo facevi risale al Berlusconi ma purtroppo non ce l'ho stampato che hai capito di cosa sto parlando sì sì l'idea di diciamo utilizzare solo la pace e queste cose per parlare di Europa invece perché secondo me purtroppo non sono messaggi che convincono le persone a fare di più cioè lo danno il fatto che la pace sia in Europa è fantastico però è dato un po' come per scontato ormai quindi bisogna fare di più cioè parlare solo di pace ma anche spesso viene appunto citato l'Erasmus viene citato il roaming di internet negli altri paesi sì esatto quelle tre cose la pace il roaming ok sono cose giuste ma secondo me non convincono le persone che bisogna fare di più bisogna spingere oltre perché sono date un po' per scontate quindi il mio obiettivo e secondo me anche l'obiettivo di volte è far capire che l'Europa è più solo di quello quindi queste sono cose fantastiche cioè il fatto di avere avere la pace in un continente come l'Europa è un successo enorme ovviamente però non è abbastanza cioè noi dobbiamo capire che serve appunto un intervento sociale per fare in modo che non ci sia più la povertà in Europa fare in modo che il cambiamento climatico venga gestito come continente fare in modo che le crisi migratorie non vengano più gestite come in base su agli interessi nazionali ma come continente è questo quello che io voglio portare avanti perché se parliamo solo di pace e di roaming le persone dicono sì grazie ce l'ho già ah sì ok ok interessante ok immaginiamoci quindi volta il governo europeo è andato tutta alla grande è andato tutta alla grande abbiamo di fronte la questione gigante dei valori democratici parlando appunto perché tu stavi adesso descrivendo queste robe qui quindi roaming l'erasmus la pace e io ho pensato immediatamente all'Europa cosa si parla si cita spesso quando si parla di Europa ci sono i valori democratici la questione dei valori democratici e dei diritti umani perché peraltro ho visto che nel vostro assolutamente programma c'è tutta una parte sui diritti umani assolutamente non è che a nessuno frega niente allora diciamo te ne frega solo quando ti tocca personalmente cioè quello è il grosso diciamo una grande battaglia a portare avanti è che normalmente le persone quando diciamo sono in Italia non abbiamo ancora grandi problemi dei diritti umani quindi non si pensa al fatto che in Ungheria la democrazia sta lentamente scomparendo e quindi questo è un tema molto umano diciamo diciamo è una cosa ancora lontana non ci penso però la verità è che un'istituzione come l'Europa dovrebbe essere molto più vocale molto più forte nel condannare certi comportamenti cioè io penso che il fatto che Viktor Orban sia comunque distruggendo lentamente i valori democratici che contraddistinguono tutti i paesi europei nel suo paese sia una cosa che su cui l'Europa già da 30 anni si aveva voluto pensare a come gestire tale situazione e ora noi stiamo arrivando sì ora hanno sospeso mi pare nel gruppo parlamentare europeo la procedura è stata la procedura proprio europea è stata lanciata ma non passerà mai perché c'è il diritto di vetro della Polonia e quello è un vero problema c'è un alto grande limite è come se in una regione italiana ci fosse un governatore completamente contro la democrazia e tutti gli altri dicono sì non va tanto bene però guardiamo da un'altra parte cioè quello secondo me è un tema istituzionale i cittadini europei ovviamente possono condannarlo ma non è la loro responsabilità portare avanti queste battaglie ci deve essere un sistema governativo che dica ragazzi se voi vi comprate così o non siete da Europa o bisogna dobbiamo farci due chiacchiere ma senza neanche pensare a un'espulsione di un paese perché un'altra cosa da chiarire è che non bisogna condannare gli ungheresi per il governo che hanno perché la verità è che spesso come sta succedendo in Italia quindi lo dico anche con cognizione di interesse cioè il fatto che il governo italiano in questo momento stia comunque diminuendo lo spazio personale aumentando anche magari la tensione sociale poi se vuoi ne parliamo anche di questi dettagli non deve poi portare tutti tutti gli italiani essere visti come espressione del loro governo quindi io sono molto anche non mi piace puntare il dito verso l'Ungheria tutta perché penso che il governo strumentalizza l'informazione giochi sulle paure per portare poi diciamo portarsi a casa dei diritti togliere i diritti alle persone però per esempio il fatto che noi tuttora diamo in pare 13 miliardi di fondi europei all'Ungheria quando non ha mai partecipato a un programma di restribuzione di migranti ha chiaramente dei problemi interni giganteschi lì invece dico beh però forse dovremmo svegliarci perché va bene non va bene diciamo accompagnare un paese in una fase di miglioramento in una fase di difficoltà però regalare gli soldi quando non partecipano al costituto europeo e non diciamo condividono i nostri valori di là vedo molto più molto più negativamente ok questo è interessante però quando io ti ho chiesto non è che nessuno frega niente parlavo sempre di una questione di di aria che tira di consenso perché ovviamente tu fai un discorso sensatissimo anzi l'esempio che hai fatto sulla regione è ovviamente interessante nessuno lo accetterebbe mai per ora per ora nel senso che chiunque penso a tante figure che in questo momento ti potrebbero dire questa cosa è buonista questa cosa non è così interessante anzi è quasi un limite cioè tu stai mettendo dei paletti delle strutture di comportamento che magari possono essere percepite come un rallentamento appunto di qualsiasi tipo di politica quello che succede con i migranti ad esempio si pronuncia queste persone non le vogliamo e chi dice che li dobbiamo accogliere è buonista vale anche secondo me per l'Ungheria ad esempio tutto il gruppo Visagrad non solo l'Ungheria che di fatto applica delle politiche sempre sui migranti che sono anti italiani in un certo senso perché sono contro il nostro interesse nazionale si chiudono e i migranti rimangono qua vengono comunque esaltate da certi partiti e dal loro elettorato che comunque non voglio prendermela con tutti gli ungheresi ma alcuni hanno votato quindi come le convinci queste persone che invece quei valori sono importanti perché poi il discorso è tutto lì se tu cali dall'alto questi diritti umani che sono importantissimi i valori democratici per me sono importantissimi ma se li cali dall'alto non hai la paura di essere percepito di nuovo come casta come buonista come qualcuno che è lontano dalla realtà perché sarebbe la prima cosa che ti direbbero allora ti rispondo in tre modi secondo me uno informazione cioè il fatto che appunto i diritti umani vengano visti come qualcosa di calato dall'alto vuol dire che c'è un problema nel modo in cui le informazioni vengano distribuite nel modo in cui gli stessi cittadini vengono anche magari preparati alla vita comune perché il fatto che cioè i diritti umani ci toccano profondamente il fatto che adesso le donne in Italia possono abortire è chiaramente una battaglia di diritti umani portata avanti con grandi difficoltà e il fatto che non si è dato il giusto risalto al fatto che questi diritti ora ce li abbiamo e sono nostri secondo me è un grosso problema di forse il nostro sistema educativo cioè io il fatto che io come cittadino italiano non ho mai fatto per esempio educazione civica educazione civica ha sia diciamo una parte più di perché devo votare perché ma anche di che diritti ho io il fatto cosa mi può fare la polizia cosa mi può fare il mio governo tutte queste cose che sono proprio miei diritti nessuno me li insegna quindi o ho studiato legge o me li ha letti mia mamma o non nessuna conoscenza quindi quello diciamo è una cosa più culturale lungo termine in cui ti direi è importantissimo rendere le persone molto diciamo metterle a conoscenza profondamente dei diritti che hanno acquisito e dei diritti che possono essere tolti però aspetta perché le persone non hanno un problema con i diritti loro hanno un problema con i diritti degli altri cioè sembra quasi che sia noi l'Europa ha un modo di intendere i diritti che è universale quindi quei diritti sono per tutti mentre stiamo passando a un segmento nel quale i miei diritti da europeo sono questi perché io sono italiano sono europeo ma chi arriva non europeo quindi non gode di quei diritti mi sembra che non ufficialmente però ufficiosamente stia un po' passando questo messaggio e questo è diciamo il grosso problema che appunto le persone pensino che i diritti siano diciamo si possano dividere cioè che i diritti umani che noi abbiamo acquisito non vanno applicati in altri paesi o in altre realtà la verità è che i diritti sono universali quindi se tu cominci a togliere i diritti dalle persone che arrivano arrivano nessuno ti dice che non verranno poi tolti a te ed è quello davvero la cosa per cui bisogna combattere non soltanto per le persone che arrivano per cui ovviamente io penso beh ma io ovviamente ho scritto questo programma quindi penso sia fondamentale che i diritti umani siano più che universali siano condivisi da chiunque ma bisogna anche capire che quando diciamo i diritti vengono messi in discussione per qualcuno anche i propri diritti vengono messi in discussione perché il fatto che non consideriamo più l'accoglienza come un diritto vuol dire che se poi tu sei la persona che ha bisogno di accoglienza perché una tragedia può succedere a chiunque chi mi garantisce che poi allora quel diritto venga conservato per me stesso quindi c'è anche una parte molto secondo me egoista nel voler difendere i diritti per dire non sono diritti di qualcun altro ma sono anche i miei diritti essere poi messi in discussione indirettamente però a questo punto i diritti sono come il roaming i diritti sono come il roaming però se tu vuoi utilizzare quel tipo di comunicazione per l'Europa quindi dobbiamo pensare anche al futuro questa cosa non è in conflitto con quello che mi hai appena detto però attenzione perché ci tolgono i diritti però attenzione perché ci tolgono il roaming e torna la guerra non è la stessa cosa guarda secondo me è un misto cioè ovviamente bisogna pensare al futuro bisogna anche pensare al presente quindi questo è quello che abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione quindi io dico sì pensiamo al futuro però se mi tolgono i diritti oggi è una cosa da cui ci dobbiamo proteggere oggi e poi vorrei comunque dire una cosa generale sui diritti cioè io posso capire che magari i diritti non sono la cosa che vendono di più politicamente in questo momento e difendere alcuni diritti viene chiamato buonista bene chiamatemi buonista cioè per me è più non è una questione politica questa è una questione fondamentale umana che in un programma politico che in una visione politica i diritti umani siano fortemente protetti e anzi anche aumentati espansi secondo me questo magari non ha ritorno elettorale domani magari invece per avere per parlare non so per ottenere più supporto politico dobbiamo parlare più della parte economica e della parte dei diritti va bene però per me la parte dei diritti non è negoziabile cioè non è qualcosa che se uno mi dice il buonista lo dico vabbè magari lo tolgo dal programma perché non mi conviene ma è uno dei valori fondamentali di Volt e quindi non è neanche negoziabile quindi io posso anche spiegarti perché per me è fondamentale che averlo detto e possiamo continuare ma non è qualcosa che noi metteremo mai in discussione per ottenere consenso ok e se invece la Polonia e l'Ungheria lo fanno? prendono i benefit e poi se ne vanno? secondo me sanzioni economiche sono in questo momento storico la cosa giusta da fare io non penso che l'Europa abbia ancora la maturità per dire voglio espellere quel paese voglio prendere quel paese e proprio anche per il fatto che ci sono molti cittadini per bene o che magari non hanno informazione sufficienza per capire quello che sta succedendo e quindi io non mi senterei assolutamente tranquillo a dire vogliamo espellere la Polonia espellere l'Ungheria in questo momento però per esempio sanzioni economiche io le capirei benissimo cioè dire i fondi europei non li ricevi finché non diciamo diventi non alzi le asticelle non ti allinei a dei valori minimi insomma quella è la strada giusta pensi che sia stato mi direi di no però te lo chiedo allo stesso pensi che sia stato un errore assorbire questi paesi che io ho l'impressione siano entrati successivamente quindi non sono tra i fondatori dell'Europa siano entrati per delle ragioni più economiche che di valori guarda secondo me ti dico che secondo me ci sono ragioni politiche perché molti di questi paesi erano comunque ex area sovietica giusto e quindi secondo me c'è stato un tentativo di anche magari nonostante non fossero ancora pronti per un'integrazione completa per dire vi apriamo le porte bisogna anche guardare sempre il momento storico cioè ad oggi magari è più facile dire sarebbe stato meglio aspettare farli crescere più simili ai nostri valori farli arrivare a un livello più simile ai nostri valori ma dato il momento storico dato il fatto che l'Unione Sovietica era caduta dare una possibilità a questi paesi di rientrare diciamo nell'area democratica del mondo secondo me è stata un'idea giusta un'idea la direzione giusta è un po' come l'euro stesso cioè l'euro chiaramente faccio l'esempio perché è facile è imperfettissimo e magari sarebbe dovuta essere l'ultima ciliegina sulla torta di un processo europeo è stata una scelta politica di dire facciamo questo salto portiamoci avanti diamo un messaggio forte a tutto il mondo quindi sì praticamente non è stata non è facile gestire questa situazione ma penso che politicamente sia stata la scelta giustissima da fare ok e quindi altrimenti quale sarebbe stato il rischio che sarebbero ricaduti nell'orbita russa che in generale dopo essere stati comunque diciamo in una fase storica difficilissima cioè la dominazione sovietica essere anche abbandonati o essere comunque non sentirsi benvenuti dai partner europei avrebbe potuto portare comunque a uno sviluppo molto negativo della democrazia in quei posti quindi non so se l'orbita russa sia la cosa giusta da dire magari semplicemente governi fortemente antidemocratici e conseguenzialmente fortissimi sulla vita dei cittadini qual è la posizione di Volt nei confronti della Russia in questo momento storico in questo momento storico ovviamente negativo cioè purtroppo la Russia ha chiaramente mostrato spesso che sta lavorando contro la democrazia europea in alcuni casi cioè lo sappiamo in Italia abbiamo visto in Germania quindi c'è un'aggressione da parte del governo russo su diciamo i processi democratici dei nostri paesi quindi da quel lato Volt che chiaramente non è favorevole a questa cosa e pensa che anzi questa debolezza che l'Europa mostra possa essere semplice solo aggiustata se ci cominciamo a comportare diciamo come un continente anche in politica estera perché il fatto che la Russia tramite gli attacchi cibernetici ma anche la Cina tramite le contrattazioni commerciali sia chiaramente lavorando per mantenere ben separati gli stati europei giocando sull'interesse di uno degli altri è un limite nel nostro continente è una debolezza che noi mostriamo è il fianco che noi mostriamo ad altri partner o avversari quindi è fondamentale per Volt che l'Europa comincia a pensare come una quando si parla di politica estera quindi secondo te l'errore europeo mi sembra tu l'abbia appena detto è proprio quello di funzionare invece come tanti statedelli in conflitto perché ormai la rilevanza dei singoli stati in un mondo globalizzato che ci piaccia o meno è minuscola cioè comunque l'Italia è un paese glorioso con un sacco di eccellenze però comunque 60 milioni di persone verso un miliardo e mezzo di cinesi e quindi proprio sulla bilancia commerciale contrattuale negoziale c'è poco da fare cioè è come se noi negoziassimo ho usato una volta l'esempio di San Marino ovviamente le proporzioni non sono perfette però rende l'idea cioè da una parte hai un continente dall'altra un piccolo stato come l'Italia ok che però è glorioso lo vuoi ricordare perché è una cosa politica il posto più bello del mondo ah beh comunque io sono italiano con i sogni assolutamente orgoglioso di essere italiano ero in Olanda guarda ero in Olanda settimana scorsa e durante un'intervista mi ha detto siamo finiti a parlare di cibo e ovviamente lì l'orgoglio italiano esce subito quindi assolutamente se l'Europa fosse unita la questione russa come andrebbe affrontata invece secondo me bisognerebbe beh prima di tutto io spero che in futuro la Russia torni un partner come lo era fino a un paio di decenni fa di un decennio fa in generale bisogna avere una voce forte dire far capire che l'Europa non può accettare certi comportamenti nei suoi confini e ovviamente certe ingerenze ma quello qualunque stato sovrano che sia grande piccolo che sia un continente non può accettare ingerenze e quindi far capire diciamo mandare un messaggio forte che può essere tramite ambasciate chiamare gli ambasciatori come è già successo però far capire che non siamo qua per farci prendere in giro e secondo me è quello che sta molto mancando perché ovviamente poi magari c'è l'Austria che è più vicino alla Russia c'è l'Italia anche che ha chiaramente gli interessi commerciali quindi siamo molto divisi non c'è un messaggio in Italia una voce forte a cui credo la Russia comunque reagirebbe perché la Russia comunque non ha interesse a essere completamente ostile all'Europa a non avere più commercio con l'Europa quindi io credo che con un messaggio forte si potrebbe probabilmente risolvere la situazione ok come te la spieghi questa quasi passione questa ammirazione che in Italia sta non solo in Italia in tutta Europa si sta sollevando attorno alla figura di Putin ad esempio e anche questi questi rapporti che mi sembra non siano concreti però sono più delle simpatie tra questi leader ti parlo di Putin però c'è anche Trump però c'è anche Orban cioè ci sono queste Netanyahu cioè ci sono queste connessioni un po' strane che sembrano un po' strane superficialmente che però iniziano a intravedersi che cosa secondo te perché sta succedendo? può essere probabilmente dovuto al fatto che ci sono messaggi politici comuni cioè il fatto di essere l'uomo forte che chiude le frontiere che pensa solo al proprio paese comporta il fatto che diciamo si creano delle somiglianze proprio tra i vari attori e quindi che il politico italiano che dice certe cose dice c'è un politico israeliano che dice la stessa cosa è mio amico che poi è anche ovviamente uno simolo perché invece se sei sovranista nazionalista non dovresti appoggiarti ad altri paesi ma questo è il grande diciamo paradosso del nazionalismo moderno cioè tu puoi essere nazionalista in un mondo molto connesso in cui con un cellulare puoi parlare con chiunque in tutto il mondo non funziona cioè è proprio uno simolo storico infatti io spero che pian piano anche il fatto che una persona come Salvini stia cercando di creare un fronte di sovranisti che però non hanno assolutamente l'interesse degli italiani in mente comporta il fatto che anche Salvini perde la faccia a un certo punto perché se io supporto Salvini e poi il suo collega tedesco dice italiani poveri non vi daremo un euro chiaramente io spero che qualcuno cominci a pensare vabbè ma Salvini ma che stai a dire fatti sentire ma non è ancora successo fortemente ma spero che questa contraddizione emerga perché è la speranza anche che a un certo punto ci sia un momento di verità dicendo Salvini ma che ci stai prendendo in giro ci stai giocando con le nostre vite e mi auguro che succeda il prima possibile ok interessante e invece per la Cina cosa la questione della via dell'asseta l'avrei seguita tantissimo cosa ne pensi io penso che il commercio in generale è sempre positivo questa è una cosa da politico il commercio è bellissimo però vabbè è anche da persona secondo me di buon senso ok però come ho detto prima chiaramente a mio avviso la Cina ha degli interessi diversi dai nostri quindi sta facendo un po' il suo gioco e venire nelle varie capitali europee negoziare con i vari capi di stato per portarsi a casa un po' di influenze in ogni paese ovviamente in Italia siccome noi non abbiamo dei grandi negoziatori neppure dei grandi politici quindi quella farsa delle arance e così via ci fa soltanto male però magari invece la Germania che è più furba ha portato anche a casa un ottimo deal per le proprie aziende e ovviamente la fa orbitare più vicino alla Cina che al progetto europeo perché non è non c'è stato un patto europeo ma è un patto tra due stati sovrani indipendenti credo che questa sarà la grande sfida dei prossimi 10-20-30 anni la Cina cioè come gestire la Cina perché la Cina può essere benissimo anche una forza positiva per l'Unione Europea però per l'Europa tutta però capire come gestire uno stato in cui i famosi diritti umani non esistono in cui la democrazia è molto ad hoc o praticamente non esiste ma che comunque è una crescita esponenziale che conta sempre più in geopolitica e in cui nel frattempo gli Stati Uniti stanno sempre più ritirando su se stessi che erano sempre stati un po' diciamo il bilanciatore del mondo quindi la Cina è proprio un tema che dovremmo tenere sul radar molto più di prima ma non pensi che la Cina io penso io lo penso ad esempio che la Cina sia così veloce anche perché non è democratica può essere può essere però assolutamente e qui cito Salvini lui aveva detto meglio poveri che schiavi giusto io senza portare a quell'estremo sono contentissimo che le nostre democrazie imperfette e che comportino una crescita minore economica ci diano quei diritti che in Cina mancano in Cina le persone non votano possono sparire in Cina le persone se appena pensano qualcosa di diverso possono essere sanzionate ci sono gli screening facciali per strada hai un punteggio da cittadino è una realtà quasi distopica quindi sono contentissimo di avere magari un po' meno benessere o dover lavorare più duramente per ottenere quel benessere e anzi creare consenso e dover creare anche una portare i cittadini indietro un'idea che invece dominarli in quella maniera perché io ho l'impressione che ad esempio la questione dei diritti umani sia emersa in Europa proprio in un momento di grande benessere o comunque non di grande benessere però di boom economico quindi le persone stanno sempre meglio e quindi possono iniziare a permettersi di mettere in campo certi tipi di strutture politiche però effettivamente ogni volta che c'è un rallentamento allora mi sembra che si inizia a dire sì però cioè che le persone preferiscano lo stare bene al sì storicamente ti direi che è vero secondo me è correlato sia al fatto che le persone diciamo hanno dei bisogni più primari che magari di concettuali quindi uno dice se non arrivo a fine mese al cambiamento climatico ai diritti di chi arriva ci penso dopo e quello è umano c'è anche un tema di appunto dare le cose per scontato quindi magari uno anche se non sta tanto peggio però sta un po' meno peggio dice ma sì non pensiamo ai diritti umani non pensiamo alla sostenibilità perché è più importante quello ma dando molto per scontato perché poi purtroppo in Europa la storia dimostra che è molto facile ricadere si può chiamare nell'oscurità o comunque nelle situazioni molto brutte del nostro continente ricordiamoci che i nostri nonni hanno visto cioè si scannavano con i tedeschi o con i francesi o con gli inglesi per noi adesso è impensabile ma io temo che se non ci fosse l'Unione Europea non sarebbe tanto impensabile perché le tensioni che vediamo oggi il fatto che i francesi richiamino gli ambasciatori l'ambasciatore da Roma cioè a noi siamo una barzelletta antistorica ma ricordiamoci che 80 anni fa per queste cose scoppiavano delle guerre in cui morivano milioni di persone quindi è sempre importante ricordarsi che i diritti che abbiamo acquisito la stabilità che abbiamo non è data per scontata quindi sì ci sono dei momenti in cui magari è più importante pensare a far crescere il PIL che ad aumentare espandere i diritti ma teniamoli bene a mente cioè è fondamentale che quello che è successo a Verona è davvero deve essere un campanello nell'allarme al congresso delle famiglie di Verona se si chiamava così mi pare sì è un campanello d'allarme cioè il fatto che si è dato uno spazio pubblico e tra l'altro c'era anche un endorsement ufficiale da parte della presidenza del consiglio a quel congresso cioè c'era il logo poi è stato rimosso però già che era comunque un endorsement ufficioso perché Salvini c'è andato esattamente in cui si parla di omosessualità come malattia in cui si parla di aborto come crimine è un campanello d'allarme molto forte molto forte per me quindi dobbiamo tenere la barra dritta in questi momenti e pensare anche non soltanto ovviamente ad aumentare il benessere economico che è sempre fondamentale ma anche a quello che ci perdiamo per strada se ci dimentichiamo dei diritti che abbiamo Nella tua esperienza tra i vari paesi europei ci sono delle significative differenze nel rapporto con le questioni di questo tipo esistono omosessuali aborto esistono e stranamente non sono per forza correlata alla situazione economica cioè per esempio i matrimoni omosessuali se non mi sbaglio tra omosessuali in Spagna sono arrivati ben prima che in Italia e la Spagna non è che era messa meglio economicamente che in Italia quindi ci sono le differenze culturali dovute magari allo sviluppo sociale alla forza magari della religione nel posto e sono assolutamente presenti quello che mi che ho anche notato che però in tutti i paesi ci sono sempre c'è sempre una fetta della popolazione più grande o meno grande che porta avanti le stesse battaglie quindi in ogni paese europeo per esempio un programma come Volt che è molto forte sui diritti civili ha dei sostenitori magari in Francia alcune cose che diciamo sono date per scontate e la gente dice chissà perché pure ci sono le abbiamo già e magari invece in Grecia è una nuova battaglia che sta venendo portata avanti quindi quelle sono le differenze però diciamo in tutta Europa ci sono questi temi sono presenti ho capito in ottica di sviluppo sempre per il discorso di volta al governo europeo e quindi di unione possiamo chiamare Stati Uniti Europei ti piace Stati Uniti d'Europa Unione Europea Sarebbe possibile secondo te questa è un'idea di Enri De Luca che sto rubando vergognosamente il fatto che a fare questa unione federale diciamo siano soltanto gli stati fondatori e poi gli altri si aggreghino successivamente cioè pensi che sia un'ipotesi praticabile potrebbe è una delle ipotesi cioè io vorrei che non fosse così mi piacerebbe che tutti ci muoessino insieme penso che però la volontà politica diventerà sempre più forti in alcuni stati che in altri quindi vedo uno scenario in cui alcuni stati cominciano a cooperare sempre di più mentre altri magari prendono il tempo necessario per raggiungere quella cooperazione sta già succedendo cioè pensiamo alla sicurezza ci sono stati che hanno già una cooperazione rafforzata in termini di sicurezza e magari fanno esercitazioni congiunte magari ah quindi militare stai parlando proprio di sì proprio quel tema militare e altri che non sono assolutamente interessati quindi è un processo naturale ti dico personalmente mi aspiro che non succeda però lo vedo come uno scenario probabile ok ma sarebbe un fallimento secondo te come potrebbe essere un compromesso cioè non è un fallimento se è l'unico modo per andare avanti a un certo punto è una decisione che va presa se non c'è alcun altro modo cioè è meglio continuare così che distruggere l'Europa siamo chiari io però ripeto non me lo auspico perché penso che comunque tutti gli stati al momento dentro l'Unione Europea abbiano il diritto e la voglia di far parte di qualcosa di più grande se poi però diciamo il peso politico necessario non verrà raggiunto magari bisognerà aspettare più tempo ok questo è interessante senti parlando sempre di Europa soprattutto perché tu hai questa esperienza all'estero immagino che avrai un sacco di aneddoti su come le cose funzionino differentemente fuori sei quel tipo di persona fuori funziona tutto meglio no vero no no dipende il cibo come ho detto prima eh vabbè quello è banale quello è banale stavo guardando l'altro giorno non c'entra niente con quello che stavano dicendo però ne voglio parlare prima che scada il tempo perché secondo me è importante un case study su Israele che è riuscito a diventare negli anni un polo tecnologico cosa che l'Europa mi sembra che non sia quello mi sembra che sia il grande l'economia del futuro si muova più o meno lì perché noi in Italia abbiamo spesso questa tilitera della seconda potenza manifatturiera che forse non siamo neanche più non lo so però di fatto l'Italia e anche vari paesi europei con alcune piccole eccezioni ma di certo non è il leader non è il leader in questo settore non è il leader nel settore dello sviluppo non è il leader del settore delle nuove tecnologie niente di tutto questo Israele lo è diventata a quanto pare quindi io mi sono un po' informato c'è un libro che si chiama Startup Nation che è scritto da due tizi che si chiamano Senor e Singer che descrivono proprio questa bolla non questa bolla questa bolla è negativa questa questa crescita questa crescita sì e la spaccano in tre parti cioè in tre ragioni per le quali secondo loro Israele è riuscito a fare questa cosa qui la prima è geografica cioè il fatto che Israele sia uno stato piccolissimo e quindi sia molto facile creare varie start up o varie varie aziende che si occupano tutte della stessa cosa soprattutto quando si parla di software quando si parla di sviluppo appunto start up persone appena uscite dall'università che quindi collaborano perché poi di quello si parla tante persone che si conoscono e fanno un network quello è un problema europeo enorme mi sembra c'è c'è la lingua che è un problema cioè c'è l'estensione europea che è grande certo noi che cosa ad esempio sotto questo aspetto che cosa dovremmo auspicare tipo che si crei un polo che ne so a Strasburgo e quindi noi dovremmo accettare che tutto sia lì che ne so che una piccola nazione tipo il Lussemburgo diventi una sorta di Silicon Valley o tu pensi a un modello più sparso nel territorio allora io credo che sia fondamentale che comunque si crei un polo tecnologico europeo quindi sarei contento se si creasse ovunque in Europa perché la verità è che oggi l'Europa sta perdendo la nuova rivoluzione industriale e nella storia chi ha perso la rivoluzione industriale non è mai rimasto bene quindi auspico prima di tutto che si crei questo polo sul modello israeliano non lo conosco bene però l'idea è che si crei davvero una zona geografica in Europa in cui diciamo le eccellenze della tecnologia dell'intelligenza artificiale della ricerca possono lavorare assieme per creare il futuro dell'Europa poi se questo sia possibile farlo anche in più piccoli hub secondo me non è impossibile cioè io se penso agli Stati Uniti c'è la Silicon Valley però non è che la California l'Europa o la California c'è la Silicon Valley scusami New York Boston così non abbiano degli hub tecnologici giusto quindi di riflesso io penso che ogni paese dovrebbe avere il proprio hub diciamo in cui i talenti locali si concentrino però diciamo gli esempi della storia come dice di case study fanno vedere che concentrare probabilmente tutte le competenze in un posto o comunque in pochi posti dà molto alle persone perché è quello che ha funzionato storicamente e pensi che questo potrebbe essere accettato perché difficilmente io lo vedo succedere senza ad esempio una redistribuzione fiscale in atto perché ad esempio la California la California ha un PIL esagerato rispetto a tutto il resto degli Stati Uniti questo immagino che sia un po' controbilanzato dal fatto che poi c'è un sistema fiscale centrale eccetera altrimenti io non riesco a immaginar provo a immaginarmela però credo che emergerebbero nuovamente tutte le questioni nazionali prima di tutto sta già succedendo cioè se pensi all'Irlanda tutti i grandi player tecnologici sono là ma lo fanno perché non pagano le tasse questo è un altro problema infatti no quello è il grosso problema quindi secondo me è vero che questo deve venire con un sistema fiscale europeo noi il nostro programma lo chiediamo un minimo di 15% di corporate tax in ogni paese che poi diventi anche una diciamo proprio una tassa europea federale su alcune cose come i proventi delle aziende perché se non succede hai ragione tu cioè non puoi svuotare i paesi dalle competenze e poi quei paesi non ottengono niente in cambio quindi è fondamentale che le due cose vanno in peripasso ma secondo me è anche naturale che succeda cioè se una tassazione del genere viene messa viene creata poi ci sarà molto più incentivo per gli stessi stati per mettere a fattore comune le risorse perché se poi il Lussemburgo diventa il po' tecnologico mondiale tutti i proventi che escono a Lussemburgo poi fanno bene a tutta l'Europa quindi è una questione pura di incentivi ad oggi non c'è l'incentivo l'unico incentivo con il dumping fiscale che abbiamo in Europa e che va assolutamente risolto ok non è poco il 15% come base perché? non so se un paese mette il 15% o si abbassano tutti al 15% per cercare di competere in modo essere competitivi contro gli altri oppure alzano le tasse ma si vedono le aziende andare via e quindi non si crea questa situazione nella quale la corporate tax è al 15% e io non so piccolo imprenditore molto di più guarda ti dico non sono un esperto di tassazione quindi il 15% è stato messo dal nostro team di economia dopo vari studi in tutto il mondo credo che l'idea sia visto che oggi abbiamo dei picchi a 10% in Bulgaria in Irlanda portando almeno al 15% cominciamo a creare un sistema più fair in tutta Europa e credo che quella sia la direzione questo io spero che tra l'altro comporti anche della competizione tra stati perché il fatto che la pressione fiscale in alcuni stati europei sia così elevata per le aziende non fa bene a tutta l'Europa perché la competizione tra l'Europa e gli altri continenti ci svantaggia ci porta a meno vantaggi quindi dobbiamo assolutamente anche pensare a un ottico in cui la pressione fiscale delle piccole e medie aziende e le aziende cominci a diminuire un po' quindi il 15% non lo vedo come una cosa troppo bassa però ripeto non sono l'esperto che ha messo il numero anche questo è molto da politico appena promesso di abbassare le tasse beh diciamo la pressione fiscale è molto elevata in Europa non pensiamo all'Italia pensiamo pure alla Francia la Francia credo che è la seconda pressione fiscale più elevata di tutto il mondo quindi comunque c'è un tema di forte tassazione in Europa noi tra l'altro a brevissimo usciremo col programma economico italiano cioè solo per l'Italia in cui trattiamo proprio il tema tassazione facendo vedere che non bisogna promettere grandi cose come la flat tax che poi non esiste ma che c'è molto da fare sulla nostra tassazione tra l'altro vedendo quello che succede all'estero come ho detto prima perché non bisogna sempre diventare la ruota noi italiani cambiamo la tassazione ogni anno un po' come i sistemi elettorali c'è tanto da imparare dagli altri cioè il fatto che paesi già all'interno dell'Europa abbiano tassazioni migliori che hanno portato più benessere è un dato di fatto quindi proviamo a portarne un po' a casa beh ci sono situazioni in Scandinavia dove la tassazione è più alta di quella italiana però è controbilanciata dai servizi pubblici quello è capire se la macchina italiana la macchina pubblica italiana è in grado di sostenere certi diciamo livelli di servizi pubblici perché comunque ricordiamoci che i paesi nordici sono anche molto più piccoli in termini di popolazione e molto più distribuiti mentre noi in Italia abbiamo tante persone in spazi diciamo molto molto urbanizzati e con grandi disuguaglianze nel paese quindi quello è è uno studio molto difficile da affrontare però tra poco lo saprai voi vi siete fatti un'idea su come risolvere il problema è un problema secondo voi sì mi direi di sì la questione meridionale è un problema ma ne parlate è nel vostro nel vostro radar è assolutamente nel nostro radar perché la questione meridionale è ovviamente una sfida enorme per l'Italia ed è una sfida molto comune ad altri paesi cioè tanti paesi hanno delle regioni che storicamente sono rimaste indietro pensiamo alla Spagna c'è tutta la parte dell'Andalusia ma non solo e quindi noi quello che abbiamo fatto abbiamo creato una squadra di ovviamente persone come esperienza ma che hanno anche vissuto il territorio quindi la chiamiamo la task force del meridione che lavora con spagnoli greci per affrontare il grande tema della disuguaglianza territoriale che è ovviamente questo da sempre è un grossissimo problema per l'Italia e il fatto che sempre più giovani lasciano quei territori e scappino o al nord o addirittura in altri paesi europei è il vero il vero problema migratorio cioè il fatto che noi stiamo svuotando mezzo paese di quelli che poi dovranno costruire costruire il futuro di quei territori quindi è ovviamente una grande priorità per volte che poi è un problema anche di varie nazioni adesso non so perché ci stiamo fissando mi sto fissando sulla Bulgaria oggi però la Bulgaria ad esempio ha questo problema è uno di quei paesi che si svuota proprio le persone vanno via perché non per le ragioni per le quali le persone vanno via alla fine è sempre lo stesso no no è un problema internazionale e appunto in Europa troviamo tanti casi quindi la Bulgaria è un ottimo esempio c'è la Romania con lo stesso problema tutti i paesi in cui appunto il livello sociale non è non so come dire quando parla di reddito minimo è anche quello quando la gente non ha delle soddisfazioni economiche adeguate con il lavoro che fa o non ha proprio le opportunità perché nel Sud Italia è il vero problema che non ci sono opportunità non è neanche è anche un tema ovviamente di compensi ma non ci sono i posti di lavoro cioè abbiamo creato il reddito di cittadinanza pensando di creare magicamente così il lavoro ma la verità è che non ci sono le aziende che investono nel Sud Italia quindi è un tema ovviamente condiviso a tutta l'Europa è una grande sfida mondiale se non continentale e secondo me la cosa deve essere sempre sul radar della politica sempre sul radar della politica a parole lui è sempre io purtroppo però quando vedo che per esempio il nostro governo ha bloccato gli investimenti chiaramente quello non aiuta poi a colmare il deficit quindi dovremmo lavorare tanto a quel lato non è soltanto una questione di soldi ma ovviamente anche di diritto è una questione di fare in modo che le aziende estere abbiano interesse di nuovo a investire in Italia nel Sud Italia è un argomento molto ampio diciamo ok tornando al che gli stadi di Israele gli altri due aspetti in realtà li accorpiamo perché abbiamo già parlato dell'istruzione in realtà dell'importanza dell'istruzione eccetera dei network che si creano c'è il problema della demografia cioè l'intera Europa ha questo problema della demografia mi sembra che nessuno se la scampi cioè c'è chi va un po' meglio ma sempre peggio e c'è l'Italia che va molto molto male mi fa sorridere perché proprio ieri parlavamo del programma economico italiano che vogliamo portare e uno dei cinque pilastri se poi uscirà così era solo una bozza era proprio sulla natalità cioè il tema di la risposta non è dire aumentiamo esponenzialmente l'immigrazione in Italia perché quello ovviamente può aiutare in parte ma non è la risposta che diciamo il paese vuole ma il paese il tema è come fare in modo che persone come me e te facciano figli in questo paese e siano aiutati a fare figli perché se la situazione economica è quella che è le persone dicono vabbè allora io non faccio figli io ti dico tra i miei amici ormai io ho 27 anni quindi ampiamente in età da figli nessuno ha figli ed è un grosso problema sociale cioè è un altro campanello d'allarme della nostra società quindi io quello che auspicherei è cominciare a aumentare e sarà una grande spesa però su me è la spesa giusta che è una rete per diciamo sempre sociale un programma sociale per aumentare incentivare i figli la natalità la natalità semplicemente e un'altra cosa anche fare in modo che qualunque bambino abbia le stesse opportunità cosa vuol dire? che se tu nasci da una famiglia con meno disponibilità economiche lo Stato dovrebbe aiutarti a formarti ad accedere alle stesse opportunità che ha un bambino molto ricco non è così ad oggi è un grosso problema però è una di quelle cose che promettono tutti non ho mai sentito un politico che dice che non dovrebbe essere così però proviamo cioè la mia idea è proprio servono grandi cambiamenti cioè la società in cui viviamo ha bisogno di grandi cambiamenti purtroppo e non è soltanto appunto abbassare le tasse o migliorare i trasporti pubblici ci sono delle tematiche che stanno diventando sempre più invadenti nel nostro modo di vivere quando parliamo di cambiamento climatico non è soltanto che è divertente vedere tutti i giovani in piazza ma vuol dire che c'è un'emergenza quando parliamo di bassa natalità il fatto che la popolazione italiana diminuisca di anno in anno già da ormai da un po' di anni dovrebbe davvero farci suonare un campanello di allarme secondo me sono quelli i temi su cui investire dei soldi cioè io come cittadino italiano sono contento di pagare le tasse se aiuta il mio paese a non scomparire o se aiuta i miei figli ad avere l'acqua pulita tra vent'anni sono molto meno contento di pagare le tasse per quota 100 quando non credo che l'emergenza di oggi sia far andare gente in pensione prima o per reddito di cittadinanza quando è giustissimo avere un ammortizzatore sociale perché è disoccupato ma una roba in cui ci sono i navigator e così via che non ha senso secondo me che non si sembra che funzioni non può funzionare se non ci sono posti di lavoro se non si chiamano le condizioni di posti di lavoro quindi quelli per me sono soldi sprecati e non possono essere tolti da programmi appunto innovativi o semplicemente all'istruzione ricordiamoci che il governo ha tratto 4 miliardi all'istruzione credo che sia sempre una questione di chi fa le politiche e per chi le fa perché se una buona parte del tuo elettorato della tua demografia è in età da non vedo l'ora di andare in pensione o che ne so o dei genitori che vorrebbero andare in pensione è molto probabile che quel tipo di politiche tu che hai 28 anni le vedi come soldi buttati altri non le vedano così la sfida è sensibilizzare cioè la sfida è far capire che tutti vorremmo andare in pensione ma se i tuoi nipoti scappano dall'Italia non possono avere famiglia devi pensarci cioè devi cominciare a pensare anche a quelli che verranno dopo questo è quello che ha fatto Obama tra l'altro negli Stati Uniti dove nella sua campagna i nipoti andavano a prendere i nonni per fargli andare a votare è stato un famoso esempio quello che noi dovremmo cercare di fare anche nel nostro paese cioè è ovvio che ci sono problemi in tutte le fasce sociali e in tutte le fasce generazionali è così che funziona il paese però il fatto che per aumentare i benefici per esempio a chi sta andando in pensione vengano tolti dei fondi all'istruzione cioè chiaramente cioè o qualcosa è andato storto quindi lì bisogna riportare informazione sensibilizzazione per dire ragazzi se noi qui non prepariamo i nostri figli a per esempio la nuova rivoluzione industriale al digitale ma la scuola italiana sta ancora dibattendo sui temi per la maturità mentre in altri paesi come la Cina citata prima la gente inizia a imparare la programmazione quando ha dieci anni quello è un grosso rischio ma per tutti noi cioè è un grosso rischio per i nostri nipoti i nostri figli io personalmente ora sono giovane non lo so più tra vent'anni ma spero e mi impegnero tantissimo di capire che è importantissimo che anche i miei figli abbiano una voce e abbiano un ruolo nella società e non pensi solo a me stesso quindi la posizione la posizione di Volt sull'immigrazione sul discorso degli immigrati che arrivano come contribuenti nuovi come il famoso discorso delle pensioni ce le pagano loro eccetera non è allineato a questo pensiero no no assolutamente se vedi il nostro programma c'è tutta la parte di migranti economici che possono aiutare il nostro paese a ripartire però non è l'unica l'unica leva purtroppo il mondo non è bianco e nero sempre questo è di sicuro un fatto che ci aiuta e purtroppo lo vediamo anche già oggi c'è il caporalato è dato al fatto che per avere i pomodori buoni a 3 euro al chilo non so facciamo lavorare delle persone che vengono da fuori con stipendi da fame illegalmente sono schiavitù fondamentalmente quindi ovviamente c'è un ruolo per chi arriva e aiuterà tantissimo la società italiana perché come tu dici tu come stai dicendo la società italiana sta invecchiando moltissimo quindi servono forze fresche però non è l'unico modo cioè io non penso che questo non possa essere accompagnato con un programma di natalità serio che il governo italiano aveva voluto fare da molto tempo che appunto sui modelli per esempio nordici in Danimarca l'antidità ripartita con un programma partito negli ultimi 5 anni se non sbaglio si è ripresa completamente la natalità quindi sono due cose che possono andare insieme ok però tu hai più volte citato non mi ricordo se l'hai citato qui o ti ho sentito citarlo la questione che si cita spesso della Nigeria ad esempio che diventerà gigante che diventerà più grande ti l'ho citato anche oggi l'hai citato anche oggi per quello me la ricordo me lo sono segnato qua sì quella questione lì beh quella questione lì fa parte diciamo di tutte le politiche di partnership tra l'Europa e l'Africa secondo me l'Europa e l'Africa deve diventare partner per il futuro non assolutamente in maniera coloniale ma in senso che se l'Africa sta bene se l'Africa diventa stabile se l'Africa può accogliere e dare opportunità a tutte quelle persone che nasceranno nei prossimi decenni ci fa bene anche a noi non soltanto perché evitiamo appunto grandi crisi migratorie che spacchino l'Europa ma anche perché per le nostre aziende diventa il primo partner commerciale cioè ricordiamoci che la Cina sta investendo un sacco di miliardi in Africa ecco ma vedi ritorniamo di nuovo al discorso del fatto che la Cina non è democratica perché una cosa che si cita spesso quando si parla dell'Africa la si cita anche in modo molto strumentale lo fanno anche le destre è un'evoluzione dell'aiutiamoli a casa loro che è il piano Marshall rifacciamoci al piano Marshall cioè gli Stati Uniti lo dico per chi ci ascolta dopo la seconda guerra mondiale hanno deciso di investire molti soldi in Europa per farla diventare un partner come dici tu innanzitutto tu pensi che sia una strategia possibile non mi piace chiamarlo piano Marshall perché mi sembra un po' sembra coloniale un po' antiquato un po' coloniale però si di sicuro c'è tutta una parte di investimenti che si possono fare in Africa non soltanto per sviluppo commerciale ma anche distruzione supporto perché questa cosa è avvenuta in un momento storico particolare cioè gli Stati Uniti innanzitutto unica potenza adesso non è più così e soprattutto in un momento di grande benessere economico cioè loro fondamentalmente vendevano le loro merci a tutti e quindi erano molto ricchi e approfittavano di questo dislivello per fare questa cosa qua comunque il piano Marshall avevo letto che riportato al 2018 costò circa 100 miliardi questo l'Europa sti soldi li spende cioè è nella condizione economica per la quale i cittadini possano dire ok mi sta bene che spendiamo tutti questi soldi per non so per il benessere di un paese che non conosciamo è lontano non è meglio chiudere semplicemente tutto mettiamo l'esercito non entra nessuno fortezza Europa beh prima di tutto pensando a 100 miliardi pensiamo mettendo in prospettiva ne sprecchiamo 160 miliardi di qua in Italia di fondi europei quindi i soldi non possono fare tutto però dicevo per mettere un numero in prospettiva secondo me ovviamente anche lì serve sensibilizzazione far capire che mettendo le navi all'esercito non si risolve nulla cioè tutta la fantastica propaganda dei Salvini non sta risolvendo il problema cioè le barche arrivano arrivano meno magari perché sono tutti trattenuti in Libia ma che è una cosa davvero triste da un punto di vista appunto di famosi diritti umani però comunque arrivano sbarcano quando c'è stata la 18 alla fine questi poveracci sono sbarcati lo stesso quindi la soluzione di Salvini non è una soluzione e si vederà sempre di più secondo me adesso arriva l'estate quindi ripartiranno gli sbarchi quindi purtroppo io temo che è anche quello che noi proponiamo quella sia l'unica strada cioè sia l'unica strada per risolvere questa crisi non ce ne sono altre non ci sono alternative mettere l'esercito per il mare non serve a nulla cioè diventa un'ecatombe il Mediterraneo diventa un'ecatombe la costa livica ma non credo che nessuno voglia quello quindi l'idea è bisogna avere almeno io spero che molti non vogliano qualcuno che lo voglia c'è sempre è vero non tutti però la maggior parte della popolazione la maggior parte della gente è di buon senso e non vuole quello quindi sì bisogna investire dei soldi 100 miliardi per un continente come l'Europa non sono tanti specialmente se spalmati in diversi anni se saranno 100 miliardi però può promettere un numero vero e quindi è fondamentale anzi è una cosa che sarebbe già dovuta partire è partita in parte comunque ci sono delle missioni ci sono dei supporti però creare davvero un'ottica a 10-20 anni in cui tu dici e la commissione europea lo può fare perché come dici tu sono burocrati giusto quindi hanno di sicuro un'ottica più lunga e possono anche provare a portare avanti un progetto un po' più lungo termine di cicli elettorali è l'unica soluzione cioè lo dico proprio dal mio cuore non ne vedo un'altra quindi sarà fondamentale che la politica ne prenda atto spero che questa stagione deprimente passi in fretta e si cominci a pensare praticamente a come gestire questa situazione perché credo che anche gli Stati Uniti comunque non fossero contentissimi di dare 100 miliardi all'Europa poi ovvio le merci andavano però il cittadino medio magari diceva beh però sono soldi miei però capire che comunque un continente distrutto che poi in quel momento sarebbe potuto essere vittima diciamo della Russia dell'Unione Sovietica è per quello che l'hanno fatto fondamentalmente e in questo momento l'Africa potrebbe diventare vittima della Cina se la mettiamo nella stessa ottica è la cosa giusta da fare secondo me è una narrativa politica che noi ovviamente porteremo avanti cioè stiamo già portando avanti ma sempre più persone spero che portino avanti nei prossimi anni ok non avevo pensato all'ipotesi di presentarla così in effetti in ottica di facciamolo noi perché non lo facciano i cinesi o perché o comunque ci conviene farlo ci conviene farlo per avere una presenza non coloniale però non coloniale ovviamente senti volevo chiederti un'ultima cosa c'è una domanda di un utente in realtà volevo chiedertene due non so se abbiamo il tempo quindi vorrei andare verso l'intelligenza artificiale voi ci avete pensato no? assolutamente la domanda è di ho dovuto scrivere prima Pierpaolo Canero eccolo qua Pierpaolo Canero ok che tipo di politiche attuerebbe per far fronte attuerebbe ti da delay per far fronte all'ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro soprattutto perché questa cosa di essere giovani è percepita come forse di giovani lo capiscono perché mi sembra che effettivamente il discorso del mondo del lavoro che cambia e cambierà sia un po' sottostimato sia un po' l'impatto insomma è tutto sottostimato cioè il cambiamento tecnologico è davvero sottostimato in Europa cioè il fatto che non sia uno dei punti programmatici dei partiti ma che è come dire appunto sta arrivando un uragano e noi ci stiamo un po' nascondendo poi può essere un uragano assolutamente benigno quindi non so non sono un esperto ma non penso come tutte le rivoluzioni industriali il lavoro cambierà probabilmente non perderemo tutti i posti di lavoro ci sarà magari una perta e bisognerà lavorare su rimettere le persone in diciamo in skill in continuo per fare in modo che possano rientrare nel mercato del lavoro ma tutte le rivoluzioni industriali comportano dei cambiamenti io quello che ho detto anche prima è che temo che l'Europa lo stia completamente ignorando quindi quello che noi abbiamo nel programma è dire portiamo prima di tutto mettiamoci un target numerico portiamo l'investimento in ricerca e sviluppo in Europa è il 4% del PIL perché perché diciamo quello che ci manca in un momento non sono i talenti ma sono le strutture cioè i nostri migliori talenti vanno via da questo continente poi magari vanno anche in Inghilterra in Germania in Olanda però moltissimi cioè i budget che hanno non so le università americane il governo americano per la ricerca e lo sviluppo sono incomparabili rispetto a quello che noi abbiamo in Europa purtroppo la ricerca ha bisogno di mezzi risorse e investimenti quindi cominciamo a aumentare gli investimenti in quella direzione e poi come dici tu non so se saranno i giovani o tutta la società cominci a renderci conto che è uno dei temi politici più fondamentali l'intelligenza artificiale può essere di enorme beneficio per questo pianeta può essere ovviamente anche un rischio se non gestita bene però dobbiamo sforzarci per fare questo passaggio tecnologico si collega molto al tema della SIC con Valle Europea comunque il fatto che non ci sia un hub tecnologico però secondo me si ricollega anche alla questione del reddito di cittadinanza perché tu hai detto questa rivoluzione tecnologica sarà come altre e quindi a un certo punto certi lavori diventeranno altri lavori eccetera però io vedo una sostanziale da persona che ama la tecnologia però vedo una sostanziale differenza con ad esempio la rivoluzione industriale la rivoluzione industriale ha portato certi lavori a sparire fondamentalmente perché le macchine sono molto più brave si sono rivelate essere molto più brave a fare cose manuali a farle velocemente a farle con precisione ma a far diventare quei lavori dei lavori concettuali quindi ha trasformato lentamente ci sono stati sono stati elementali ovviamente c'è il ludismo eccetera eccetera però quella roba è avvenuta così adesso a me sembra che le macchine potenzialmente potrebbero prendere il posto sia di nuovi lavori di precisione meccanici eccetera quindi togliere il lavoro al tassista per dire quindi lavoro meccanico non è esatto però lavoro manuale diciamo lavoro proprio classico ma anche diventare lavori concettuali cioè tipo l'avvocato l'architetto così via beh diventare cioè il fatto che le intelligenze artificiali e soprattutto i grandi conglomerati di dati che si uniscono eccetera possano potenzialmente risultare molto più efficaci di un medico possono diventare più efficaci di una singola persona che fa un lavoro possono mettere in crisi molto di più molto di più ecco fammi fare la domanda non pensi che in questo senso siccome io credo che molte persone soffriranno per questa cosa qua lo penso e non si potrà fare nulla fondamentalmente perché questa rivoluzione avverrà non è che la puoi stoppare diciamoci la verità non pensi che tutte queste persone rischino di essere condannate all'irrilevanza sociale cioè non non avere più scopo non pensi che il reddito di cittadinanza potrebbe aiutarli in tal senso rispondo in due modi uno quando ho prima detto che appunto ci saranno nuovi lavori che arriveranno hai ragione non so se questi nuovi lavori compenseranno per la perdita ma per esempio tutto il settore della in inglese chiama il care cioè la gestione del supporto agli anziani gli infermi e così via più il benessere diciamo anche la vita si estenderà più sarà una necessità e quello sarà principalmente umano poi ovvio magari in un futuro lontanissimo avremo dei droni che lo potranno fare ma in questo momento e l'ho letto proprio su un articolo di parte dell'economist c'è proprio uno spostamento di risorse di lavoratori da settori più classici meccanizzabili a quelli più incentrati sulla persona che sono molto più difficilmente meccanizzabili semplicemente perché noi non vogliamo avere a che fare con dei robot ma con delle altre persone ok l'altro tema è comunque sì detto il fatto che comunque c'è un rischio che alcune persone vengano lasciate indietro comunque perdono il lavoro e non possano cambiare non possono trovare un altro nel nostro programma noi non in questo ma in quello più comprensivo proponiamo di testare il famoso UBI Universal Basic Income che in italiano possiamo chiamarlo reddito di cittadinanza reddito universale proponiamo di testarlo solamente perché purtroppo se non sbaglio i test quelli che sono avvenuti per esempio in Finlandia e in altri paesi non hanno prodotto i grandi risultati in senso che in questo momento c'è una correlazione si vedeva ancora delle correlazioni tra il fatto di dare reddito di cittadinanza e l'inattività della persona quindi non che la persona esse grandi stimoli a non so reinventarsi o avere non so una nuova strada artistica culturale ma proprio portassero quasi all'inattività se mi ricordo bene gli studi quindi i primi test sono stati un po' negativi quindi diciamo può essere una soluzione però va testata in grande scala quindi facciamo per esempio proposte su decini di migliaia di persone testarlo per 5 anni vedere come si fanno per molti progetti però è una cosa che noi prendiamo in considerazione non siamo ideologicamente contro perché prima di tutto potrebbe essere necessario ma anche ha un senso se a un certo punto le macchine possono creare benessere è anche giusto che gli esseri umani ne abbiano i benefici e possono magari dedicarsi a delle attività che preferiscono e quindi cosa non va in quello italiano? in quello italiano non va che prima di tutto non abbiamo i posti di lavoro e in teoria è un sussidio per inserire persone nel lavoro non per sostituire per diciamo ribilanciare il mercato del lavoro è proprio il fatto di trovare i posti di lavoro quindi la struttura quindi va bene sì però manca manca il lavoro poi diciamo come è stato diciamo disegnato le tessere i navigators secondo me ci sono tanti errori di fondo però il concetto di dare un sussidio di disoccupazione forte e stabile alle persone ovviamente solo in Italia in Grecia in mare mancasse ad oggi un sistema del genere così progredito è stato fatto male poi c'è un tema di risorse comunque mettere 11 miliardi in quel programma quando appunto abbiamo magari non abbiamo i soldi per l'istruzione è da capire le priorità e poi è capire sì tu metti le persone gli fai arrivare tre offerti di lavoro però se poi non arrivano queste offerte di lavoro in realtà rimangono nel ciclo per sempre e non è l'obiettivo del programma se fosse invece magari un reddito universale per evitare che le persone ritornino a lavorare sarebbe una questione diversa ma non è l'obiettivo l'obiettivo è farti rientrare nel mondo del lavoro se però tu non incentivi la creazione di posti di lavoro mi stai solo prendendo in giro ho capito un'ultima cosa domanda 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 di Andrea Cornaglia come si posiziona il partito Volt in merito alla questione delle nuove norme sul copyright le seguite? le seguite allora Volt non era favorevole sembrava cioè da quello diciamo non sono anche io l'esperto di copyright però comunque c'era una posizione di Volt in cui abbiamo detto è troppo invadente è giusto avere dei standard europei forti su diciamo quello che cerca su internet la diffusione di informazioni ma c'è quasi un rischio di bloccare la diffusione di informazioni perché sai c'erano tutti i problemi di se metti una foto online se metti un contenuto online se riproduci una musica che erano molto irrestrittivi quindi la posizione di Volt è giusto ovviamente normare lo spazio del copyright ma era troppo estensiva e poi noi stiamo preparando una controproposta che porteremo tra l'altro se tutto va come deve andare i nostri parlamentari eletti avranno diciamo tra le priorità da portare beh questa diciamo che l'opposizione principalmente è stata nossa dal partito pirata che è molto minoritario e comunque ormai la normativa è passata cioè la direttiva c'è quindi perché il Parlamento dovrebbe rimetterla in discussione dopo peraltro che ci ha messo due o tre anni per è un punto valido cioè potrebbe essere una discussione che si può raperere più avanti però diciamo come Volt anche se diciamo abbiamo perso questa battaglia ma perché non erano neanche nel campo di battaglia non è che ci tiriamo indietro quindi comunque se avremo una proposta alternativa a portare avanti noi la metteremo diciamo nella discussione nei comitati poi potrebbe potrebbe vederci tanti anni per convincere il Parlamento a rimettere in discussione questa norma secondo te perché il Parlamento Europeo ha molti partiti all'interno del Parlamento Europeo penso anche a Forza Italia al PD che sono stati molto poco elastici in tal senso si sono così tanto impuntati per far passare questa legge che andava un po' contro il giudizio negativo di molti esperti del settore allora una cosa che ho letto molto è perché diciamo i parlamentari sono vecchi e non capiscono come funziona internet mi sembra un po' esagerato però potrebbe esserci comunque un'ottica semplicemente di un po' come è successo anche in America quando il Senato interrogava Zuccher che c'era chiaramente le asimmetrie informativi enormi tra le persone la politica diciamo la tecnologia potrebbe essere successo la stessa cosa cioè il Parlamento Europeo avrà dei motivi validi per pensare che un approccio conservativo sia migliore chi magari è esperto del settore dice no ragazzi l'internet non funziona così il copyright non funziona così e poi c'è anche l'altro sospetto non ho proprio per dirlo che siano le grandi aziende interessate magari a normare di più alcuni aspetti perché loro hanno i mezzi per affrontare certi un copyright più conservativo mentre magari piccoli artisti piccoli pensatori e così via non hanno i stessi mezzi quindi sono quelli più penalizzati però non so anche io sono rimasto un po' stupito sinceramente che tutti gli esperti molti esperti ne parlassero contro quindi questi sono due pensieri che ho avuto non so se siano la verità perché in questo caso c'è stata una fortissima attività di lobbying da entrambe le parti in realtà da una parte chi non la voleva questa legge che erano i grossi gruppi di internet google wikipedia scusa quella roba lì dall'altra parte c'è stato molto lobbying da parte delle società di autori quindi in questo caso forse non è proprio stato i piccoli contro i grandi ma è stato più interessi diversi interessi diversi vedi per esempio questo non lo sapevo quindi interessante ti ringrazio ho portato anche io a casa qualcosa ti ringrazio io è stata una una discussione interessante grazie per essere stato qua grazie mille fatto come è andata bene bene grazie mille 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 grazie mille